Buonasera a tutti, diamo inizio a questa seduta del Consiglio Comunale, la parola al Segretario per l'appello e la verifica del numero legale. Buonasera. Marco Terreni, Mattia Citi, Matteo Cartacci, Simona Cestari, Paolo Coppini, Marco Pasqualetti, Veronica Diciotti, Alessandro Uodo, Mauro Ceccotti, Jessica Berti, Agnese Cini, Giovanni Baldini, Erika Ballatori, Luca Fracassi, assente, Silvia Passerai, Riccardo Salvetti, Marianna Bosco e presente anche l'assessore Chiara Ciccare. Bene, diamo inizio a questo Consiglio Comunale, primo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco, non soltanto una comunicazione. È stata attivata, come già anticipato in qualche commissione, l'area riservata consiglieri sul sito. Lunedì mattina il nostro CED provvederà ad inviare a tutti i consiglieri le credenziali d'accesso per poter utilizzare l'area all'interno della quale poi saranno presenti tutti i documenti relativi all'ufficio di consigliere comunale. Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali della seduta del 30-1-2015. Chiedo se ci sono osservazioni sul punto, altrimenti lo mettiamo poi in votazione. Nessuna osservazione, quindi mettiamo in votazione questo secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbali della seduta del 30-1-2015. Favorevoli? Unanimità? Contrari e astenuti? Nessuno, quindi il consiglio approva. Terzo punto all'ordine del giorno, l'interrogazione. È stata presentata un'interrogazione dalla consigliera Bosco, alla quale è già stata anticipata, come aveva richiesto, risposta scritta. Quindi la parola a lei per l'illustrazione. Faccio una premessa, visto che comunque si stanno facendo dei passetti in avanti, piccoli, però comunque ci sono stati dei miglioramenti, chiedo se dalla prossima volta sia rispetto alle interrogazioni che alle emozioni venga messo l'oggetto e anche il gruppo che la presenta. Questa è stata una richiesta già espressa in precedenza, mi sembra opportuna anche rispetto alla trasparenza. Comunque, l'interrogazione anonima al punto 3 è, a come oggetto, comunicare periodico di informazione dell'amministrazione comunale di Casciana Termelari, richieste informazioni, chiarimenti e adempimenti. Premesso che il Comune, nel procedere alla pubblicazione del periodico comunicare, dovrebbe prioritariamente aver chiare gli obblighi di imparzialità e trasparenza che ciò comporta e porsi come finalità la corretta e completa informazione riguardo all'attività amministrativa, al fine di rendere reale e consapevole la partecipazione democratica dei cittadini alla vita della stessa comunità, allo scopo di divulgare e promuovere le attività culturali, turistiche, ricreative e sportive in essere nel territorio comunale. Che tale notiziale di informazione fermo restando il fine civico e sociale di formare e accrescere la consapevolezza democratica di cittadini e cittadini, oltre a trattare tematiche relative all'informazione sull'attività amministrativa, alla storia e vita sociale della comunità, alle attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e sociali, è consuetudine che debba contenere anche uno spazio per i gruppi consigliari. Che questo gruppo consigliare ha sempre utilizzato gli spazi a disposizione per informare la cittadinanza, in ordine al lavoro svolto e alle proposte presentate nell'interesse collettivo, che però spesso hanno coinciso con una profonda critica e denuncia all'operato dell'aggiunta della maggioranza. Che a fronte di questo corretto comportamento, a partire dalla trasmissione delle pubblicazioni entro i termini indicati dagli incaricati alle dipendenze del Comune, abbia fatto riscontro sul medesimo numero una corrispondente avversa presa di posizione da parte del gruppo consigliare di maggioranza. Che il comportamento tenuto da certi soggetti, non essendo provvisti di doti di chiaroveggenza, suscita sicuramente dubbi e perplessità rispetto al merito, ma soprattutto obbliga a conoscere in via definitiva i percorsi interni al Comune, che fanno le pubblicazioni di questo gruppo consigliare una volta inviate. E soprattutto chi viene a conoscenza e quali misure vengano messe in atto a tutela della riservatezza dello stesso fino alla pubblicazione. Interroga il Sindaco per conoscere chi svolge le funzioni all'interno del Comune di Cascina Termelari e di responsabile del periodico, sia per quanto attiene il reperimento degli articoli, sia per la loro pubblicazione. Se il periodico sia stato registrato verso il Tribunale e se sia stato individuato un soggetto a cui attribuire la direzione, scelto dal personale dipendente in possesso dei requisiti previsti e se si è provveduto agli ulteriori adempimenti conseguenti. Quali soggetti interni all'ente, oltre il soggetto referente che tiene i contatti con i gruppi consigliari, allo stato attuale venga a conoscenza prima della pubblicazione del contenuto degli articoli inviati da questo gruppo consigliare? Quali misure intende attuare alla luce di quanto ipotizzato da questo gruppo per evitare che si verifichino possibili fughe di notizie prima della loro pubblicazione, in ordine contenuti degli spazi autogestiti dei gruppi consigliari di minoranza sul periodico? Se non si ritengo opportuno, in analogia a quanto effettuato da moltissimi comuni, è al fine di prevenire ogni distorta forma di utilizzo che andrebbe a danno in primo luogo della cittadinanza, di regolamentare la pubblicazione del periodico di informazione al fine di determinare i criteri di conduzione dello stesso, l'articolazione e la redazione dei relativi compiti, la struttura del periodico. Fine. Sì, dunque, relativamente a quanto è stato chiesto, faccio presente che relativamente alla prima questione, al primo punto dell'oggetto dell'interrogazione, la richiesta degli articoli o delle notizie viene attualmente inoltrata tramite mail dalla responsabile del servizio risorti al cittadino, la dottoressa Nicoletta Costagli, agli altri responsabili del servizio, al sindaco, agli assessori e ai capi gruppo. Gli articoli sono redatti poi e redatti poi sono ricevuti dalla stessa responsabile e dal direttore del periodico, che è la dipendente giornalista iscritta nella sezione dei pubblicisti, Monica Quaratesi. Per quanto riguarda, invece, il periodico in sé per sé, si fa presente come comunicare, come riportato su ogni copia stampata del periodico e iscritto al Tribunale di Pisa, con decreto numero 6 in data 9.04.2002. Come dicevo poc'anzi, Monica Quaratesi, dipendente del Comunico Scena Termelari, iscritta all'albero dei giornalisti di sezione pubblicisti, dal 10 marzo 2005 al numero 109.318, è individuata come direttore responsabile del periodico. Procedendo al ritroso, diciamo, comunicare è la evoluzione, per comodità, diciamo, è stato trattato così, come evoluzione del periodico Lari Indiretta, ovviamente di proprietà dell'allora comune di Lari, di cui mantiene sostanzialmente l'organizzazione, la competenza per la realizzazione affidata, come diceva, al servizio risorse al cittadino e la direzione alla signora Monica Quaratesi. A riguardo sono state comunicate al Tribunale di Pisa le variazioni conseguenti, la nascita del nuovo comune e quindi la variazione dell'editore, del legale rappresentante, ovvero il sottoscritto, e il nome del periodico a seguito del concorso di idea per l'individuazione del nome. Andando avanti, diciamo, per rispondere a quanto veniva chiesto, poi si fa presente che il contenuto degli articoli inviati dai responsabili dei servizi, dal sottoscritto, dagli assessori dei capigruppo, prima della pubblicazione vengono visionati dal direttore responsabile del periodico e per l'impaginazione finale, la bozza grafica definitiva, dal gruppo della comunicazione, secondo quanto stabilito, con la delibera di giunta comunale numero 150 del 2 dicembre 2014. Dopodiché il direttore responsabile autorizza alla stampa del periodico. Ad oggi, diciamo, almeno al sottoscritto non risultano fughe di notizie rispetto agli articoli inviati, tantomeno per quanto riguarda quelli inviati dai capigruppo consigliari, per cui non si ritiene di dover procedere ad attuare particolari misure di contenimento. Si precisa poi che i criteri di conduzione, l'articolazione della redazione, i relativi compiti, così come la struttura del periodico, sono tutti elementi già definiti, in quanto, come dicevo, per il periodico comunicare sono state confermate sostanzialmente le caratteristiche del precedente l'aria indiretta. E quindi è impaginato e strutturato secondo quanto stabilito dalla delibera di giunta comunale numero 150 del 2012 2014 e per l'organizzazione il modello eseguito è quello della richiamata delibera numero 123 del 2010 2012 dell'estinto comune di Lari e quindi il periodico sostanzialmente è condotto secondo i criteri di far conoscere al cittadino la vita amministrativa del comune in cui risiede, informarlo sulle scelte e sulle azioni avviate dall'amministrazione comunale, assicurare la pluralità di opinioni affidando ai vari gruppi consigliari uno spazio all'interno del periodico in cui esprimere liberamente il proprio pensiero, facendo nello spazio, ovviamente questo è un inciso, un uso proprio e di corretta informazione, assumendosi per conto le responsabilità di quanto scritto e pubblicato, sostanzialmente esonerando il direttore responsabile da quanto contenuto all'interno. Prego, per la replica. Sì, sono necessarie due puntualizzazioni e una proposta. Allora la prima puntualizzazione è che su due numeri di comunicare non c'è la gerenza. La gerenza è quello spazio appunto dove c'è scritto al tribunale e chi è il direttore responsabile. Io questo l'avevo fatto già presente, ancora prima di scrivere l'interrogazione. L'avevo fatto presente al vice sindaco durante un'iniziativa pubblica che si era tenuta ad agosto, non so se si ricorda. È da allora che è mancato, poi dopo l'interrogazione infatti è passato un mese dalla pubblicazione del periodico, non so se perché avete dovuto ottemperare a questa mancanza oppure sono stati altri motivi. La seconda puntualizzazione è che la delibera dell'aggiunta comunale del 2 dicembre 2004 è stata pubblicata il giorno prima che ho ricevuto la risposta. Adesso anche su questo punto. L'albero pretorio, tra l'altro l'avete scritto sul nuovo sito del Comune di Casciana Terme, richiede la tempestività. Non possono passare quanti mesi? Quattro. Anche perché ho presentato l'interrogazione, probabilmente sarebbero passati 5, 6, 7 mesi? Qual è il senso? Anche io non vengo a conoscenza di una delibera dell'aggiunta comunale perché non sono assessore. Questa è un'altra grave mancanza. Non si può presentare l'interrogazione il giorno prima pubblica all'albero pretorio. La proposta e poi questa è una puntualizzazione, però io per un articolo che il nostro gruppo ha scritto, io sono stata chiamata dai responsabili per discutere. Poi si è risolto in modo diverso. quando si scrive sul periodico che il testo è completamente, come dire, prodotto dal gruppo consigliare, non bisognerebbe entrare nel merito. Quindi la mia proposta è che gli articoli vengano inviati direttamente alla tipografia perché tanto sono 4.000 battute, quello è lo spazio riservato a noi. È inutile che ce le chiedete un mese prima, due settimane prima, che appunto non si sa dove fluttuino questi articoli perché qualche volta sembra comunque il periodico costruito non soltanto nelle risposte del gruppo di maggioranza ma anche gli articoli. Poi sarà un caso, sarà una coincidenza, però secondo me la proposta di mandarli direttamente alla tipografia due o tre giorni prima mi sembra concreta, reale, non credo che sussista nessun problema, invece di inviarli ai responsabili del servizio. Mi sembra molto semplice perché tanto non c'è da modificare nulla, c'è scritto. Il testo così come viene inviato viene riportato nel giornalino. Grazie. Prima di dare la parola agli altri gruppi se lo ritengono necessario devo fare alcune precisazioni rispetto alla replica. In realtà l'indicazione della registrazione di chi è il direttore responsabile, di chi è l'editore e la proprietà del periodico è indicato su tutti i numeri di comunicare dal primo numero che è sottopubblicato. Non era indicato perché non erano periodici i due numeri unici pubblicati prima dell'istituzione di comunicare e non si è potuto fare diversamente in quanto il nome del nuovo periodico non c'era e sicuramente la consigliera Bosco saprà che il nome è elemento essenziale per la registrazione del periodico quindi non era possibile procedere alla variazione dei dati del vecchio comunicare fino ad avere il nome del nuovo periodico. Peraltro le comunicazioni al Tribunale di Pisa per la variazione dell'editore, del legale rappresentante della proprietà e della direzione e del nome del periodico stesso sono tracciati tramite PEC, quindi sono facilmente, se la consigliera lo vorrà, ispezionabili per vedere se questi sono stati comunicati prima o dopo la sua interrogazione. Per quanto riguarda la pubblicazione delle delibere, che peraltro è già stato oggetto ad un'interrogazione del gruppo Insieme è possibile e quindi sulla quale avevamo già dato risposta, faccio presente che essendo il Comune tenuto a moltissimi adempimenti e dovendo scegliere cosa privilegiare, la nostra indicazione agli uffici è quella di privilegiare i servizi ai cittadini prima che le delibere. Oltretutto le delibere di giunta in modo particolare sono immediatamente eseguibili e quindi non hanno necessità di pubblicazione per la propria integrazione dell'efficacia. Quindi io credo che se si deve sacrificare qualcosa, perché si deve nella riorganizzazione di questo Comune, qualche mese in più per la pubblicazione di una delibera che tra l'altro non mi pare neanche così fondamentale per la cittadinanza come quella di istituzione di un periodico, io credo che si possa tranquillamente aspettare. Poi che si debba fare il massimo perché le pubbliche delibere, sia di giunta che di consiglio, vengano pubblicate tempestivamente il prima possibile, su questo siamo tutti d'accordo. Però siccome gli uffici non hanno la bacchetta magica e come già spiegato in altra occasione della verbalizzazione della giunta e del consiglio, se ne occupa in prima persona il segretario comunale, che come certamente capirete ha anche altri ruoli da svolgere all'interno del Comune, io credo che se qualche deriva di giunta peraltro resta indietro di qualche settimana o di qualche mese, insomma non sia la fine del mondo. Interventi dagli altri gruppi? Ceccotti? Normalmente all'interrogazione ci dovrebbe essere solo una risposta, però siccome mi sono sentito chiamato particolarmente in causa, voglio solamente aggiungere poche parole. Innanzitutto mi dispiace se il gruppo Una Svolta in Comune ha perso il sonno per questi problemi, me ne dispiace, però da una parte questo mi dà anche ancora più fiducia nel nostro operato, vuol dire che se questi sono i problemi, vuol dire che stiamo andando nella strada giusta. Giusto per fare un po' di storia, queste relazioni vanno avanti da tantissimi anni, già abbiamo avuto tante storie nell'ex Comune di Lari, con l'opposizione del gruppo di Lari Cecche, che ha sempre detto le solite cose, io mi sono trovato anche in più casi a giurare anche sui miei figli e robe del genere, ma di fronte alla mala fede ho visto che è solo tempo e fiato sprecato. Quello che voglio dire, l'unica cosa che condivido nell'interrogazione è che non abbiamo, diciamo, né la sfera magica né la chiaroveggenza. Io ho sempre letto gli articoli sul giornalino, uno mi può credere o non mi può credere, l'ultimo l'ho letto il 30 marzo, me lo sono segnato, quando mi arrivo a casa lo leggo. Visto che non abbiamo, diciamo, la sfera di cristallo, io quello che devo dire è che banalmente non è colpa mia se ciò che scrivono gli altri gruppi poi, in questo caso, poi se è, diciamo, una cosa come il problema è prevedibile. Questo è quello che devo dire io. Poi, ognuno può pensare quello che crede, si può prendere le strade che ci pare, e vedrete che nell'arco, diciamo, dei prossimi numeri sarà sempre uguale, perché poi gli argomenti sono quelli, le storie sono quelle. Io ho sempre scritto ciò che ho pensato, se poi ci ho indovinato, è perché, se lo dirò, ripeto, era semplicemente perché siete molto prevedibili. Bene, intervento Ballatori, prego. Condivido sicuramente le perplessità che ha espresso la Bosco nella propria interrogazione, perché comunque è un pensiero che spesse volte ha, purtroppo, mi viene da dire banalmente, non lo so, definitilo come volete, che in qualche modo mi ha sempre un po' lasciato perplessa. Vi posso assicurare, fra l'altro, che noi mandiamo l'articolo veramente sempre all'ultimo secondo, forse anche con una certa tolleranza da parte degli uffici che ci aspettano sempre con molta gentilezza. Però effettivamente, insomma, saremo anche prevedibili, saremo anche banali, però di fatto se questa illazione o questa perplessità, la voglio chiamare io, nasce più volte dal Banco dell'opposizione, e non solo in questo mandato amministrativo, ma anche in altri, evidentemente può darsi che un piccolo fondo di verità ci sia. Quindi, niente, volevo soltanto rappresentare anche la nostra posizione, che manifesta questa perplessità al pari della consigliera Bosco. Grazie. Grazie. Passiamo. Prego. Avevo fatto una proposta, però non ho ricevuto risposta, rispetto a quello di inviare gli articoli alla tipografia. E poi ho comunque due periodici che non hanno la gerenza, quindi mi aiutate a trovarla, poi dopo si vede assieme, però perché poi bisogna vedere... Allora... Quali sarebbero i periodici senza... No, 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 perché su tutti i periodici cerchiamo... Allora, vai. Dunque, allora, fermo restando che io vorrei chiedere a tutti e tre i gruppi indistintamente, così non faccio parzialità, di come dire, quando io cerco, d'accordo tra l'altro con la conferenza dei capigruppo, di lasciare margini derogati in aumento rispetto a quello che è il regolamento del Consiglio. Però, insomma, cerchiamo di rimanere nei limiti. Comunque, relativamente a quello che è stato detto, come dicevo prima nella replica, i due numeri su cui non è stata indicata la gerenza sono non due numeri del periodico, tant'è che se si guarda quel numero, si chiama Casciana Termelari, numero unico di informazione dell'amministrazione comunale di Casciana Termelari. Perché, come dice la parola, sono due numeri unici, uno sul bilancio, l'altro sui risultati elettorali. E come dicevo, non era possibile indicare la gerenza, perché quei due, essendo numeri unici, quindi essendo possibile per quella che è la legge sulla stampa, produrli senza l'indicazione di una redazione, quindi di un direttore responsabile, di un ereditore, di una proprietà e della registrazione presso il Tribunale, così è stato fatto nell'emore, come dicevo, della rinominazione del periodico che era di proprietà del Comune di Lari, Lari in diretta. su tutti i numeri di comunicare, per favore, per favore, allora consigliere, per favore, se si attiene almeno alla decenza del comportamento un Consiglio Comunale, quando andiamo via, quando andiamo via le faccio vedere dove è scritto, va bene? Se no, poi fa un esposto, una denuncia anche lei, alla Procura per far vedere che abbiamo fatto la produzione di un numero del giornalino senza l'indicazione del direttore responsabile, va bene? Così chiudiamo questa discussione che immagino quanto sia appassionante per i cittadini che ci stanno seguendo. Per quanto riguarda l'invio degli articoli che prevengono dai gruppi, la legge sulla stampa, e in questo dato che siete così tutti esperti, prevede comunque una responsabilità per il direttore responsabile del periodico nel caso in cui all'interno degli articoli anche quelli dei capigruppo siano utilizzate espressioni denigratorie, lesive della dignità delle persone o che possano far sorgere responsabilità penali in capo al direttore di intervenire. L'intervento che gli uffici fanno sugli articoli che mandano i capigruppo è esclusivamente limitato a questo, peraltro con un indirizzo chiaro del sottoscritto e della giunta di non interferire in nessun modo con quello che è il contenuto degli articoli dei gruppi, che il sottoscritto, così come gli altri membri della giunta e consiglieri a maggior ragione, non leggono fino al momento della stampa degli stessi. Quando inviate gli articoli, questi articoli vengono presi, visionati dal direttore per fare lo screening di cui parlavo prima e inviate la tipografia. Quindi le tempistiche che vi vengono assegnate sono, che vengono assegnate a voi come agli altri, peraltro, sono le tempistiche che il direttore e la responsabile del servizio ritengono necessari per giungere nei tempi che l'amministrazione ha stabilito a monte alla pubblicazione e alla distribuzione del periodico. Peraltro ci sono alcune occasioni, come quella dell'ultimo periodico, in cui la pubblicazione è vincolata dalla normativa sulla propaganda elettorale, per cui il numero di comunicare non poteva uscire successivamente all'indizione dei comizi elettorali, sia regionali, sia quelli che sono di competenza del Ministero per le elezioni comunali e gli altri comuni in cui si svolgono. Quindi le tempistiche che vi vengono date sono date esclusivamente per motivi di celerità nella stampa. E questo è quanto. Poi, insomma, starà un po' anche alla discrezionalità degli uffici e della redazione stessa darvi una scadenza che, peraltro, mi risulta non essere mai inferiore a 15-20 giorni, quindi credo ci sia tutto il tempo che ritenete opportuno, che è opportuno per darvi la possibilità di scriverlo. Andando avanti con l'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno, abbiamo il punto 4, commissioni consigliari e sostituzione dei componenti. Come anticipato alla conferenza dei capi gruppo che si è svolta il 7 aprile scorso, si è reso necessario a seguito della nomina del consigliere Coppini ad assessore e la surroga in consiglio di Giovanni Baldini procedere alla modifica della composizione delle commissioni consigliari permanenti. in sedia di conferenze di capi gruppo avevo dato indicazione a tutti i capi gruppo di trasmettermi entro venerdì della scorsa settimana le eventuali sostituzioni che si ritenevano necessarie ovviamente per le competenze di ciascun gruppo all'interno delle commissioni. Il gruppo di maggioranza ha comunicato la sostituzione di Paolo Coppini con Giovanni Baldini nelle commissioni di cui faceva parte e quindi con questa delibera si va a modificare secondo quelle che sono le previsioni del regolamento attualmente vigente di funzionamento delle commissioni consigliari la composizione della commissione consigliare numero 1 che viene così a trovarsi composta dai seguenti membri Alessandro Vuodo in rappresentanza della maggioranza consigliare Ceccotti Mauro in rappresentanza della maggioranza consigliare Cini Agnese in rappresentanza della maggioranza consigliare Giovanni Baldini in rappresentanza della maggioranza consigliare Bosco Marianna in rappresentanza della minoranza consigliare Fracassi Luca in rappresentanza della minoranza consigliare Salvetti Riccardo in rappresentanza della minoranza consigliare Inoltre viene modificata anche la commissione della commissione paritetica terme che viene così a trovarsi composta dai seguenti membri Jessica Berti, Alessandro Vuodo, Giovanni Baldini, rappresentanza della maggioranza consigliare Luca Fracassi, Salvetti Riccardo e Bosco Marianna, rappresentanza della minoranza consigliare Ci sono interventi su questo punto? Allora mettiamo in votazione questo quarto punto all'ordine del giorno Commissioni consigliari, sostituzione dei componenti, favorevoli Unanimità, contrari e astenuti nessuno, il Consiglio approva È necessaria per questa delibera la dichiarazione dell'immediata eseguibilità, favorevoli Unanimità, contrari e astenuti nessuno Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno Adesione all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Questo diciamo è un adempimento dovuto alla nascita del nuovo comune Che non è entrato a far parte automaticamente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Diciamo per successione degli estinti comuni di Cascina Terme e di Lari E non avendo il commissario prefettizio proceduto nel periodo del commissariamento Si procede stasera alla proposta del Consiglio di aderire all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Io credo che sia un atto dovuto aderire in quanto entrambi i nostri comuni estinti erano soci fondatori Dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e credo anche che visto il perpetuare da parte anche di questo governo Di politiche restrittive fortemente nei confronti degli enti locali che ne mettono a rischio la funzionalità Sia necessario per tutti i comuni aderire alla propria associazione e che la propria associazione faccia un'attività più incisiva Per quanto possibile nei confronti delle altre istituzioni perché possa essere garantita la missione degli enti locali e dei comuni In particolare che è quella di garantire i servizi ai cittadini Per questo motivo insomma noi proponiamo stasera l'adesione all'Anci, quindi l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Il dibattito è aperto, se ci sono interventi Allora mettiamo in votazione anche questo quinto punto all'ordine del giorno Adesione all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Favorevoli? 15 Contrari? Nessuno Astenuti? 1 Il Consiglio approva Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno Permuta di porzione di terreno di proprietà comunale Con altra porzione di terreno di proprietà dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di San Miniato Relativa alla ex scuola elementare di Lavaiano Autorizzazione illustra il Vice Sindaco Mattia Citi Con deliberazione di consiglio 53 del 28 marzo del 78 era stato approvato in consiglio comunale il progetto di ampliamento del peso scolastico che insiste nella località di Lavaiano Il progetto della costruzione dell'ampliamento prevedeva di avviare una procedura espropriativa di terreni individuati nel piano particellare Venne in seguito a questa delibera di consiglio approvato il nuovo piano particellare di esproprio Partirono i lavori di ampliamento dell'edificio e l'edificio venne realizzato come stabilito Non venne però dato avvio al decreto di esproprio che non era mai stato emanato Pertanto la porzione dell'area nord sulla quale insiste attualmente l'edificio scolastico in Lavaiano Insiste ancora ad oggi sul terreno di proprietà dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di San Miniato Con sede in San Miniato Si tratta praticamente di una parte di terreno sul quale per circa 50 cm insiste l'immobile della scuola di Lavaiano L'altra parte di terreno è stata acquisita in questo senso a proprietà In quanto sono necessari i metri per il rispetto dei confini di vicinanza E' quindi opportuno attraverso un'operazione di riordino delle proprietà sia del Comune che dell'Istituto Diocesano Rimettere ordine a questa situazione che prende avvio nel 1978 E' quindi necessario procedere a una permuta La permuta è una porzione di particella sulla quale la scuola insiste Come dicevo con l'Istituto Diocesano per il sostestamento del Clero di San Miniato Una porzione della particella al mitro fa la proprietà comunale Si tratta di una porzione di terreno di forma rettangolare Catastralmente rappresentata dal catastro dei terreni del Comune di Cascina Termelari Nel foglio 3 particella 375 della superficie di 87 metri quadri Questa di proprietà comunale Automaticamente la permuta si ha con una porzione di terreno anch'esso rettangolare Catastralmente rappresentata nel catastro dei terreni del Comune di Cascina Termelari Nella sezione A foglio 3 mappale 373 Anch'essa di 85 metri quadri di proprietà dell'Istituto Diocesano Le particelle sono tra loro identiche sia per dimensione che per valore venale C'è però bisogno di una, quanto si tratta di una variazione del patrimonio comunale Che è di competenza del Consiglio Comunale Si necessita il passaggio in Consiglio per la regolamentazione dell'atto E quindi per permettere l'accatastamento di questo ampliamento che venne fatto nel 1978 Interventi su questo punto? Salvetti In relazione all'autorizzazione per poter procedere ad atto di permuta di porzione di terreno Sul quale è ubicata l'ex scuola elementare di Lavaiano Ci troviamo concordi Invitiamo l'amministrazione a procedere con la massima sollecitudine Sanando tale situazione in modo che l'immobile possa essere riconvertito E diventare utilizzabile dalla collettività o eventualmente possa essere venduto E non rimanere un edificio abbandonato Visto che sul territorio di Lavaiano esiste già una situazione molto grave Che si presenta all'ingresso del Paese E che ci auguriamo possa in qualche modo essere risolta Visto che ce la portiamo dietro da diversi anni C'è stata appunto una conferenza dei capigruppo il 7 aprile Quindi dieci giorni fa, non un'eternità fa E durante questa conferenza ad esempio non è stato fatto riferimento a questo punto Si parlava di cosette ad introdurre oltre allo statuto Ma non è stato fatto riferimento a questo punto all'ordine del giorno Quindi mi sembra strano che il 7 aprile non si fosse a conoscenza Io poi non ho partecipato alla Commissione per motivi di lavoro Però non mi sembra una cosetta, mi sembra una cosa importante Dico al 7 aprile non si sapeva che si sarebbe discusso nella Commissione Anche di questo punto Tra l'altro anche nella convocazione della stessa Commissione Questo punto non è stato messo all'ordine del giorno Cioè vorrei capire come mai Si parlava della garanzia, della fideiussione Ma di questo Interventi dovrebbero essere sul punto però È sul punto infatti È sul punto Sì Allora Però voglio dire soltanto a proposito delle precisazioni Ok l'intervento deve essere sul punto Però se all'albero pretorio Un atto di giunta No, 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 voglio dire una cosa Perché bisogna essere precisi Allora non è che il sindaco e la giunta può fare quello che gli pare E il consigliere se tutto è in consiglio deve rispettare il regolamento del 1993 Questo è il primo richiamo ufficiale Questo è il primo richiamo ufficiale Si attenga all'ordine del giorno E gli interventi sul punto Io sto dicendo soltanto che questo punto non è stato Dibattuto nella conferenza di capigruppo Tra l'altro l'ultima conferenza era stata convocata ad ottobre La sottoscritta ha chiesto di convocare una conferenza Proprio perché erano due mesi che non si teneva un consiglio Consigliere Bosco Al di là di raccomandarle di tenere un comportamento un po' più consono rispetto alla sede In cui siamo Ricordo ulteriormente che la conferenza dei capigruppo È convocata dal sindaco ogni qual volta lo ritenga necessario Oppure su richiesta dei consiglieri dei capigruppo Questo è stato fatto Ok? Peraltro Preso atto del fatto che evidentemente Le sue priorità sono diverse dalle nostre E Che lei considera questo Questo punto Evidentemente essenziale all'ordine del giorno Noi lo ritroviamo un po' meno Essendo di fatto la sistemazione di uno stato di fatto Faccio presente come In questo punto si è stato inserito Peraltro fra le varie eventuali Per questo ringrazio la disponibilità Del presidente Vuodo È stato inserito fra le varie eventuali Proprio perché La delibera è stata confezionata E la questione con L'istituto diocesano per il sostentamento clero Si è risolta in quei giorni E Così rispondo anche al consigliere Salvetti Proprio per farci carico Insomma con sollecitudine Della risoluzione della questione È stato appunto non ritenendolo sostanzialmente Un punto di grandissima strategia politico-amministrativa Inserita sia fra le varie eventuali della commissione 1 Sia stasera nell'ordine del giorno Perché ricordo che non c'è alcun obbligo Di convocazione della conferenza dei capi gruppo Per la formazione dell'ordine del giorno Poi se questo serve La convocazione della capi gruppo Serve per Come dire Un rasserenamento del clima Del consiglio E per condividere quantomeno La programmazione dei lavori del consiglio comunale Il sottoscritto è disponibile Se questo deve diventare un diritto di veto Di chi che sia Per l'inserimento dei punti all'ordine del giorno Non mi trovate più disponibile Questo per rispondere al consiglio Perché nel bene o nel male L'iniziativa Nei confronti del consiglio È in via prioritaria Assegnata alla giunta Che il sottoscritto Fino a prova contraria Presiede E quindi Se si ritiene necessario Inserire un punto come questo Che ripeto Non mi pare Desti Grandissime Questioni Di natura politica O amministrativa Io mi ritengo libero Di poterlo fare Finché Rispetto I regolamenti Vigenti Sì Sono del 93 Ma vigenti sono Fino a che non saranno sostituiti da altri Io Continuerò a garantire L'iniziativa Della giunta Nei confronti del consiglio Così come Continuerò a garantire Quando I capigruppi Lo riterranno Opportuno Il lavoro Della conferenza Dei capigruppo Questo è quanto Mettiamo a questo punto in votazione Questo sesto punto All'ordine del giorno Permuta di porzione Di terreno Di proprietà comunale Con altra porzione Di terreno Di proprietà Dell'istituto di Ocesano Per il sostentamento Del clero Di San Miniato Relativa all'ex Scuola elementare Di Lavaiano Autorizzazione Favorevoli 15 Contrari Nessuno Astenuti 1 Per questa delibera È necessaria L'immediata eseguibilità Favorevoli 15 Contrari Nessuno Astenuti 1 Approvata L'immediata eseguibilità Settimo punto All'ordine del giorno Garanzia sussidiare In favore del Banco Popolare Per il mutuo Di 37.000 euro Richiesto Dall'Associazione Sportiva Circolo Tennis Perignano Per la realizzazione Di intervento Per la trasformazione Della superficie da gioco Di due campi da tennis Su area di proprietà comunale Il lusso Il vice sindaco Assessore allo sport Mattia Citi In questo caso Si tratta Di una delibera Per rilasciare Apposita garanzia Assessore a favore A favore dell'associazione sportiva Circolo Tennis Di Perignano Per l'assunzione Di un mutuo Di 37.000 euro Con il Banco Popolare Agenzia di Perignano Il mutuo In questione Verrà così suddiviso Circa 10.000 euro Saranno utilizzati Per l'estinzione Anticipata Di un mutuo Che già era stato Contratto E autorizzato Con delibera Del consiglio comunale Del 2006 E era stato Preso Per il completamento Dei lavori Di calcetto Di copertura Di campi da tennis Sulle aree di proprietà Del comune Gli altri Circa 27.000 euro Saranno utilizzati Per un intervento Di trasformazione Delle superfici da gioco Di due Dei tre Campi da tennis Che attualmente Sono proprietà Del comune E che sono gestiti Dal circolo sportivo Tennis di Perignano La trasformazione E quindi La ristrutturazione Di questi due campi Avverrà tramite La costruzione Di due Campi In terra battuta Di tipo Red brick Questa richiesta Ci arriva Direttamente Dai gestori Che Diciamo Vogliono in prima persona Impegnarsi Nel Intraprendere Un processo Di ristrutturazione Di campi Questo perché Perché Uno dei due campi Sui quali vogliono intervenire Presenta già Un deposito Di Terra In questo caso Sintetica Che ha bisogno È necessario Ricambiare Dopo gli anni Che è stata utilizzata Si tratta semplicemente Di una Svuotatura Della terra Che è presente Attualmente Nel campo esterno Al circolo di Perignano E viene Reinterrato Con terra nuova Non sintetica Con questa operazione Verranno anche fatti Le nuove linee E verrà cambiata Anche la rete Del campo Per quanto riguarda Invece Il campo interno Uno dei due campi interni Anche esso subirà Una variazione Di questo tipo In questo caso Si va a trasformare Un campo In erba sintetica Quindi un campo veloce In un campo In terra battuta Anche esso Di tipo Red brick È un lavoro Molto semplice Consiste solamente Nel rimuovere Quello che è Il tessuto sintetico Che è oggi presente Sul campo Verrà inserito Un nuovo tessuto sintetico Che permette Di evitare Di fare uno Smottamento E quindi poi Fare i vari strati Di terra e ghiaia Che sarebbero necessari A un campo di terra rossa Una nuova tecnologia Che è stata sviluppata Negli ultimi anni Che diciamo È molto economica È molto efficiente E permette anche Ai bambini Che giocano sul campo Di apprendere Meglio il gioco Del tennis Quindi in questo caso Come dicevo Viene cambiato Il tessuto sintetico Che c'è sotto E anche questo campo Viene insabbiato Con terra rossa In anch'esso Verranno fatte Le nuove linee E verrà cambiata La rete L'importanza Di questi campi Diciamo Si lega Allo sviluppo Del circolo tennis Il fatto Infatti Lo stesso fatto Che ci venga richiesto Da parte dei gestori Una richiesta questa Che arriva sia da loro Che dagli utilizzatori Della struttura In quanto Amanti della terra rossa Diciamo Stanno Con lo svilupparsi Di altri circoli Che hanno terra rossa In confronto al nostro Si rischia un po' Di perdere Giocatori Sull'impianto E quindi Di mettere in difficoltà L'impianto stesso In questo caso I gestori Si fanno loro Per primi Carico Di questi Di questi Lavori Chiedono Al comune Una fideuzione Che li permetta Di Aprire Questo nuovo Mutuo In banca Come dicevo Loro Con questo mutuo Che vanno ad aprire 37 mila euro Estinguono Un mutuo Che già hanno aperto Il nuovo mutuo Presenterà I soliti interessi Quindi non c'è Un aggravio Diciamo di costi Da questo punto di vista La rata Verrà mantenuta La solita Si tratta di una Ritrasformazione Del mutuo in essere Per permettere Di avere Un nuovo intervento Tra l'altro I gestori Non hanno mai mancato Un pagamento Negli anni precedenti Quindi diciamo Da questo punto di vista Qua non ci sono mai stati problemi E Inoltre Il mutuo Che verrà stipulato Si prevederà Nel Eventuale Prossimo bando Di gestione Un'apposita Claudia Che prevede L'accollo Da parte del gestore Del Somma restante Del mutuo Quindi non viene preso Da Il gestore attuale Ma rimane a Coloro che poi Avranno in gestione Il circolo tennis Che dovranno comunque Farsene carico Io credo Da assessore allo sport Che E ospico un voto All'unanimità Su questa questione Perché credo che Se si vuole Far sì Che In realtà Come quella del circolo tennis Dove due ragazzi giovani Comunque investono il loro tempo E Danno Un'opportunità Di gioco Educazione E svago A molti giovani Ad urti del nostro comune In primi Ci mettono la faccia Ci mettono Del loro Per fare dell'investimento Su comunque Un immobile Che è del comune L'investimento poi rimane Al comune Io credo che vadano aiutati E bisogna sostenerli Quindi io mi auguro Che stasera da qua Esca un voto Favorevole Da parte di tutti Grazie Bene Il dibattito è aperto Interventi Su questo punto Salvetti Prego Allora Riguardo Alla Derribile Di rilascio Garanzia Fidesoria Dell'associazione Sportiva La circolo Tennis Di Perignano Per assunzione Del mutuo Di 37.000 euro Siamo favorevoli In quanto Ci auguriamo Che tale intervento Possa dotare Il circolo stesso Di quelle strutture Oggi indispensabili Per poter tornare A essere competitivo Verso le altre realtà Della Vardera Riportando Al circolo stesso Quei tesserati Che oggi Si sono rivolte A altre strutture Invitiamo Inoltre L'amministrazione A far conoscere E promuovere A tutte le strutture Del nuovo comune Di Casciana Termelari Che ne possano beneficiare Lo strumento Della garanzia Fidesoria A favore di terzi Per l'assunzione Di mutui Destinate Alla realizzazione O ristrutturazione Di opere Ai fini Culturali Sociali O sportivi Sui terreni Di proprietà Comunale Pratica che ad oggi Si risulta poco utilizzata Ma che sfruttata bene Potrebbe portare Notevoli benefici Per le associazioni Che si trovano A operare Sul territorio comunale E quindi A ricaduta Su tutta la cittadinanza Bene Grazie Altri interventi Bosco La garanzia Fidesoria La prima Era stata chiesta Nel 2006 Quindi quando non c'erano Diciamo Problemi Economici Prima della crisi Del Di lagare Nel 2007 Adesso Questa associazione Richiede una garanzia Fidesoria Sicuramente Comprendo L'importanza Di questa associazione Però Se questa associazione Richiede una garanzia Anche altre associazioni Che vogliono investire In attività Sociorecreative O culturali Turistiche Dovrebbero avere Lo stesso Trattamento Visto che questa associazione L'ha già avuto Nel 2006 Però ripeto Il periodo era diverso E' vero che ci sono i soldi Della fusione Però se vi sentite così Sicuri Tranquilli E' anche Come dire Pensabile che altre associazioni Facciano comunque La stessa Richiesta E' vero che loro Hanno un pregresso Appunto Non hanno mai mancato i pagamenti Però se qualcun altro Si dovesse Affacciare Bisogna prendere in considerazione E offrire lo stesso Trattamento Io Ho soltanto dei dubbi Rispetto Alla Alla crisi Si parla sempre di crisi Crisi economica Una garanzia Fidesoria Non sono proprio Due spicci Sono 37 mila euro E quindi Ho comunque Delle perplessità Rispetto a questi soldi Sicuramente Importante Però ci sono delle priorità Così come voi Considerate Alcune cose prioritarie Altre meno Noi probabilmente Non lo consideriamo Ecco proprio Tra i primi Tre Da Come dire Da Da sopra Ci sembra Ci sembra comunque un po' Non un rischio Però il problema è che Ci sono tante associazioni Nel nostro territorio E Se quindi anche altre associazioni Fanno la stessa richiesta Questo diventa un po' Un problema Comunque bisogna essere chiari Se l'intenzione è quella Di dare la possibilità A tutti Benvenga Sì ci sono altri interventi Ceccotti Vabbè come abbiamo già Affrontato in commissione Credo che Sia una cosa Molto Molto semplice Molto chiara Quello che si va A provare in questo momento Anche perché L'associazione Ha dimostrato negli anni Una correttezza Una serietà Ha diciamo Ha sempre gestito I campi da tennis In maniera esemplare Per quello che Io so Per quello che conosco E questo Non è È un dato che viene Valutato Come verrà valutato E questo Stornando un attimo indietro Questa Questa non è una novità Può sembrarlo forse A chi previene Dall'ex comune Di Cascianaterme Ma nel comune di Lari Questo È sempre stato pubblicizzato E chiedo che Più o meno Tutte le associazioni Anche perché È previsto Dalla legge Quindi è conosciuto Più o meno Da tutti Ci sarà bisogno Di pubblicizzarlo Questo non Anzi Non è un problema Quello che Deve fare Questa amministrazione È valutare Per quanto è possibile Il progetto Il progetto In sé per sé Per cui ogni progetto Che verrà presentato Verrà valutato Come è stato valutato A questo E Se verrà Considerato Accettabile E attendibile Questa amministrazione Conoscerebbero Conoscerebbero Dei problemi Con questa maniera Loro avranno Una rata identica A quella che hanno pagato In questi anni Solamente Protatta più nel tempo Perché evidentemente Avranno fatto Un Un loro calcolo È stato Voglio dire Un calcolo Oculato Che questa spesa È compatibile Con le loro esigenze Anzi Con questo Sicuramente Nelle loro aspettative Ma visto le pressioni Da parte Diciamo Della clientela Questo Aumenterà Il loro Il loro lavoro E quindi Faciliterà ancora Di più Il loro Diciamo La loro possibilità Di pareggiare questo Io Mi associo A ciò che ha detto Il vice sindaco Mi auguro Per Diciamo La bontà Del progetto E per Diciamo Lo scopo Che Qui si parla Di Di sport Ma si parla Anche Di Diciamo Di far conoscere Questo sport Quindi ai giovani Ai bambini Non si Cioè È una cosa Molto Secondo me Molto Molto Importante Sul territorio Anche per portare Sporti diversi Dal classico calcio Che Diciamo È ben più strutturato Sul nostro territorio Credo che sia Una cosa Lodevole Quindi Mi aspico Ancora Un voto Favorevole Di tutti Bene Grazie Ci sono Altri Interventi Allora Direi che Possiamo Mettere In votazione Questo Settimo Punto All'ordine Del giorno Garanzia Sussidiaria In favore Del Banco Popolare Per il Mutuo Di 37.000 Euro Richiesto Dall'Associazione Sportiva Circolo Tennis Per Ignano Per la Realizzazione Di Intervento Per la Trasformazione Della superficie Da gioco Di due Campi Da tennis Su aree Di proprietà Comunale Favorevoli 15 Contrari Nessuno Astenuti Uno Anche Per questa Delibera È necessaria L'immediata Eseguibilità Favorevoli 15 Astenuti Uno Contrari Nessuno Il consiglio Approva anche L'immediata Eseguibilità Passiamo All'ottavo L'ultimo punto All'ordine del giorno Statuto Comunale Approvazione Prima di dare La parola Per illustrazione Faccio presente Il comunico Quindi E tutto il consiglio Che Nella sua Seduta Citata Pocanzi Del 7 Aprile La conferenza Dei capi Gruppo Ha previsto Una Deroga In aumento Dei tempi Di discussione Un'organizzazione Della discussione Diversa Dall'usuale Per Questo punto All'ordine del giorno Considerata La sua Rilevanza In modo particolare La conferenza Ha concordato Di procedere Alla discussione In tre blocchi Dello statuto Così suddivisi Un primo blocco Riguardante Il primo titolo E una discussione Generale Sullo statuto Stesso Un secondo blocco Riguardante Il secondo E il terzo Titolo Dello statuto E un terzo blocco Riguardante I titoli Dal 4 Al 7 Dello statuto Stesso Applicando Poi All'interno Di ogni Gruppo Quelle che Sono Le regolamentazioni Ordinarie Per la discussione Del consiglio Comunale E quindi Prevedendo Sostanzialmente Che Il punto Si articoli In una discussione Che di fatto Sono tre Discussioni Salvo Ovviamente Come previsto Dalla normativa Vigente Una votazione Unitaria Sullo Sullo Statuto Stesso Ho detto Ok Chiedevo Conferma Ai capi Gruppo Quindi a questo Punto Passo la parola Al presidente Della commissione Consiliare Numero 2 Marco Pasqualetti Per la Relazione Introduttiva Prego Ok Allora Come presidente Della commissione 2 Sono abbastanza Soddisfatto Che siamo arrivati Alla bozza Definitiva Di questo Nuovo Statuto Per questo Nonato Comune Di Casciana Termelari Abbastanza Soddisfatto Perché lo Statuto È l'atto Che disciplina L'organizzazione E il funzionamento Di un ente Ed è per questo Che la condivisione Di tale atto Avrebbe dovuto Essere Unanime Di tutti Consiglieri Presenti In commissione E non solo Dei rappresentanti Dei due gruppi Consigliari Più grandi Siamo partiti Da un campione Di statuto Che riprendeva Il meglio Di entrambi Gli statuti Degli ex comuni Estinti E siamo arrivati A una bozza Di statuto Pratica E snella E snella Come volevamo Fin dall'inizio Dei lavori Un lavoro Che ha comportato Il passare Dei mesi E numerose commissioni Il lavoro Della commissione Si è suddiviso In tre fasi La prima È stata la creazione Della bozza Di statuto Avvenuta Entro dicembre La seconda È stata l'apertura Della bozza Per 45 giorni All'osservazione E proposte Dei cittadini E la terza fase È stata quella Delle esame E delle proposte Arrivate Che sono state accolte Qualsemente accolte O non accolte Concludendo Con la chiusura Definitiva Della bozza statutaria In questo statuto Come negli altri Si parte dai principi Istituzionali Di un comune Articolo 1 Un comune Deve rappresentare Tutti i cittadini Che vivono Nel suo territorio E ne pone Al centro I suoi bisogni Un comune Deve riconoscere E impegnarsi A tutelare E tramandare I valori Di libertà E democrazia Affermatasi Con il movimento Di liberazione nazionale E favorire La diffusione Nella società Dei valori E principi Della costituzione Repubblicana Abbiamo voluto Inserire fortemente Nei principi Di attività Di governo L'articolo 2 Il superamento Di ogni discriminazione Basata Sui sessi Assicurando Le condizioni Di pari opportunità Riconoscendo E tutelando Anche forme Diverse dal matrimonio E questo È importante Per una società Che vuole essere Moderna Dopo i principi Sono importanti Le finalità Di un comune Articolo 3 Il comune Deve perseguire Lo sviluppo Sostenibile Economico Ambientale Sociale E culturale Nonché La valorizzazione Delle risorse Territoriali Mediante Una programmazione E pianificazione Si riconosce Il valore Della scuola E dell'educazione Viene riconosciuto Il diritto All'acqua Ossia L'accesso All'acqua Come diritto Umano Inalienabile Universale Indivisibile E lo status Dell'acqua Come bene Pubblico Privo Di rivelanza Economica Si vuole Promuovere Iniziative Vuolte Affavorire L'integrazione E l'emarginazione Dei soggetti Più deboli E svantaggiati All'interno Della società Affinché Si garantisca La pari opportunità E il diritto Ad un'esistenza Libera E degnitosa Importanti Nella nostra Bozza statutaria Sono i beni comuni Articolo 4 Noi abbiamo Inserito Una formula Più generale Perché i beni Principali Del nostro Comune Sono sì Il castello De Vicari E le termine Casciana Ma sono anche Per citarne alcuni La zona di Sede Pregnano La ciliegia Di Agari Il castello Di Gelo Mattaccino Il santuario La Madonna Dei Monti Santermo E il nostro Verde Paesaggio E tanti altri Sono i beni comuni Di cui è ricco Il nostro territorio Nell'articolo 7 Territorio E sede comunale Abbiamo inserito La possibilità Di svolgere Il consiglio Comunale Non solo In questa sala Consiliare Ma anche In altre proiezioni Della sede comunale E altri luoghi Sul territorio Comunale Abbiamo inserito Nell'articolo 16 Commissioni L'istituzione Di una commissione Di controllo E garanzia Oltre a quelle Permanentici Esistenti Al quale è attribuito Il compito Di effettuare L'attività di controllo Ispettiva propria Del consiglio comunale E la presidenza Di tale commissione È attribuita All'opposizione Come avevamo Concordato In commissione Vogliamo ricordare Nello statuto Che il comune È sempre vicino Ai propri cittadini Ed è per questo Che nell'articolo 28 Dei centramenti Dei servizi Il comune Istituisce Sede diverse Da quella centrale Presso le quali È garantita L'erogazione E l'accesso E l'accesso Ai principali Servizi comunali Con riferimento Ai servizi Alla persona Esempio Principale E lo sportello Del cittadino Nell'articolo 34 E 35 Referendum Consuntivo Abrogativo Abbiamo fatto in modo Che il numero Di elettori Residenti Iscritti Alle liste elettorali Che potessero Chiedere Di indire Un referendum Fosse almeno Il 10% Contro il 15% Che era previsto Negli ex statuti Comunali Abbassandolo Abbiamo voluto Dare più Agevolazione All'utilizzo Di questo strumento Da parte dei cittadini In ultimo Volevo sottolineare Ancora La vicinanza Che il comune Deve avere Verso le categorie Più deboli Anche dal punto Di vista finanziario Con il riferimento Al comma 4 Dell'articolo 57 Autonomia finanziaria Il sistema tariffario Dei servizi Tiene conto E privilegia Le categorie Più deboli Della società Per tutto il resto Dello statuto E gli articoli Ci siamo attenuti Al testo unico Dele leggi Sull'ordenamento Degli enti locali Il TUEL E con questo Io concludo La mia presentazione Dello statuto Grazie 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 Prima di Aprire il dibattito Credo che sia Doveroso Non solo opportuno Alcune considerazioni Da parte Della giunta Che sicuramente Non è neutra Rispetto Allo statuto E al lavoro Che è stato svolto Per questo Io vorrei Innanzitutto Ringraziare Tutti i membri Della commissione Per il lavoro Che hanno svolto La giunta Aveva prodotto Una bozza Una prima bozza Di lavoro Per poter Consentire Alla commissione Di svolgere Il proprio compito La commissione Devo dire Ha Lavorato Lungamente E Devo dire Anche in maniera Proficua Sul Sul testo Che Era stato Proposto Modificandolo Per come lo riteneva Opportuno E Per come Poi il risultato Anche Dall'ultima commissione Trovando Una condivisione Sullo stesso Più ampia Rispetto a quella Del gruppo Di maggioranza Credo Che Il risultato Che ne è venuto fuori Sia Una sintesi Positiva Di quelli Che erano Gli statuti Vigenti Nei Precedenti Comuni Da cui è stato Preso il meglio Più Alcune Innovazioni Che Ritengo Opportuno Segnalare Nella discussione Innanzitutto La previsione Di una fase Di apertura Diciamo Dello statuto Al dibattito Al dibattito Pubblico Che poi Probabilmente Non ha Non ha Suscitato Un così forte Interesse Nella cittadinanza Che probabilmente Si ipotizzava Poi invece Venendo Al merito Al contenuto Mi fa Particolarmente Piacere Veder riconosciuto All'interno Dello statuto Cosa che non era presente In nessuno Dei due Statuti Dei comuni Dei comuni Estinti Riferimento Al valore Positivo E fondante Della nostra comunità Della resistenza Del movimento Di liberazione Nazionale E quindi Della costituzione Come sua Diretta Espressione Che ha garantito E garantisce La democrazia La libertà E l'avanzamento Sociale Del nostro Paese La Statutarizzazione Di fatto Dei contenuti Della carta di Pisa Noi che siamo stati Candidati Sindaco Di questo comune C'eravamo Tutti impegnati Alla sottoscrizione Della carta di Pisa Nella campagna elettorale Io credo che La statutarizzazione Del contenuto Della stessa Che avevamo proposto Sia Il risultato Più Compiuto Di quell'impegno Perché Dall'approvazione Dall'entrata in vigore Di questo statuto Tutti Non solo Non solo il sindaco Non solo gli amministratori comunali Ma tutti coloro Che a vario titolo Svolgono La propria Attività Come pubblica Funzione Per O all'interno Del comune Debbono E dovranno Sottostare Alle previsioni Di questo rigido Codice etico Il riconoscimento Della pluralità Del comune Per la sua Diciamo Fino ad oggi Diciamo Rara Origine Cioè quella Da un processo Di fusione Quindi con il riconoscimento Comunque Della storia Della pluralità Delle comunità Che compongono Questo comune Ma nell'ottica E poi di un proiettamento Nel futuro Insieme Quindi di una crescita Comune Alcune cose Sono state ricordate Dal Presidente Quindi la possibilità Delle sedi Diverse Da quella centrale La possibilità Che in quelle sedi Si riuniscano Gli organi Amministrativi L'importanza Appunto Come dicevo Della pluralità Nell'unità Se si può dire così Della nostra comunità E del nostro territorio Il potenziamento Che c'è stato Con questo Con questo processo Sullo statuto Degli istituti Partecipazione Con l'inserimento Prima non previsto Del referendum Abrogativo Quindi la previsione Una fonte Del diritto Autonoma In capo Ai cittadini E L'introduzione Delle forme E la valorizzazione Delle forme Di amministrazione Condivisa Con le quali L'amministrazione Può coinvolgere Direttamente I cittadini In vere e proprie Progettazioni Di interventi Ovviamente Con riferimento A quelli di maggior Impatto Sul territorio Prevedendo E questo Diciamo È la cosa Che Più Esprime Anche Il segno Dei tempi E della Modernità Anche Di questo Statuto Della possibilità Della partecipazione All'interno Diciamo Degli istituti Previsti Dallo Statuto Non solo Dei cittadini Ma anche Degli apoli Degli stranieri Regolarmente residenti E anche Di coloro Che vivono E fruiscono Del territorio Quindi Gli studenti Lavoratori Che passano Pur non essendo residenti Diciamo Gran parte Della loro vita All'interno Del Del territorio Del territorio Comunale Quindi Il giudizio Nostro L'opinione Della giunta Su questo Statuto È estremamente Positivo E quindi Ci impegneremo Per quanto Ci concerne Diciamo A dargli poi Attuazione Concretamente Nella vita Amministrativa Di Tutti i giorni Quindi Il dibattito A questo punto È aperto Chi vuole intervenire Può Prenotarsi Prego Allora Mi piacerebbe Fare una Lectio Magistralis Sullo statuto Purtroppo Ho poca voce Sono raffreddata Quindi Figuriamoci Se fossi Stati in salute Però Comunque Proverò A dire le cose Con chiarezza E con forza Allora Il giudizio Sullo statuto Da parte del nostro Gruppo Chiaramente Non è positivo Perché noi Non abbiamo Trovato Un accordo Con gli altri Due gruppi Consiliari È importante Secondo me Fare chiarezza Sul percorso Che noi Definiamo Burocratico Di questo Statuto E non partecipato Alle persone Che sono qui In sala Ma anche Chi ci Ascolta In streaming E chi Sentirà Il podcast E Vabbè Le elezioni Ci sono state A maggio L'anno scorso Undici mesi fa Ad agosto L'associazione La Rossa Che noi rappresentiamo Organizza un dibattito Per valorizzare Lo statuto La domanda Era questa È possibile Cioè Lo statuto È un'opportunità È un'occasione Per riampliare Gli spazi Democrazia Dal basso Questa era la domanda Che veniva fatta Ai capi gruppo In quell'occasione Eravamo presenti io La capogruppo Ballatore Il vice sindaco Citi E l'impegno Da parte di tutti e tre Sembrava sì Cioè Può essere questa Questa opportunità Di coinvolgere Anche i cittadini Di dare un loro Contributo Tutto tace Fino ad ottobre Quando c'è stata Una conferenza De capi gruppo E quindi parliamo Di cinque mesi Secondo la legge regionale Lo statuto E il regolamento Di funzionamento Del consiglio comunale Andavano approvati Entro sei mesi Quindi l'idea Dell'aggiunta Probabilmente del sindaco Era di fare Tutto molto velocemente In un mese Da ottobre A fine novembre Per deliberare Sullo statuto A quel punto I tempi erano Molto stretti Viene fatta Una richiesta Alla prefettura Se è possibile Come dire Derogare A quella data Perché certo In un mese Non era possibile Realizzare Nessun Percorso Di confronto Con la cittadinanza Si banda Una lettera Al prefetto Non arriva mai Una risposta Se non a livello Informale In cui sembra Che il termine Appunto Non sia perentono Ma ordinatore A quello A oggi Non mi risulta Che sia arrivata Una risposta scritta Poi semmai Il segretario Potrà fare un intervento A questo proposito E quindi A ottobre Viene fatta Questa conferenza Dove Si introduce Il metodo Il metodo Che doveva Come dire Prevedere Sicuramente Il lavoro Della commissione La commissione Numero due Che probabilmente Aveva Tardato A lavorare Sullo statuto Doveva già Dove essere Probabilmente Uno dei primi atti Insieme al bilancio Erano passati cinque mesi Ma lo statuto Probabilmente Non era una delle priorità Era una cosetta Comunque da Sviscerare In poco tempo Perché non doveva Creare troppi problemi Poi era stato fatto Questo copia e incolla Non so se usare Dire il meglio Degli ex De due statuti Degli ex comuni Di Casciana Termellari Fondamentalmente Era un copia e colla Come dire Dove Molto simile Agli statuti Di tutti i comuni Di piccole e medie dimensioni Senza Valorizzare Argomenti Come Questioni Come I beni comuni Il bilancio partecipato Referendum senza quorum E così via Tutte proposte Tra l'altro Che sono presenti Anche negli statuti Di comuni Che hanno sindaci Che fanno parte Del PD Quindi niente Di stravagante Non è che stavamo chiedendo Di costituire il Soviet Però comunque Questo non è stato Preso in considerazione Quindi Ci sono state Sono state fatte Le commissioni Dove appunto Il gruppo nostro Chiedeva Ma dove Quando il sindaco La giunta E i consiglieri Incontrano la cittadinanza Quando si fanno Delle assemblee pubbliche Perché nella reazione Di fine mandato Del sindaco Terreni Si parla di 50 assemblee pubbliche In due anni e mezzo Ma 11 mesi A conti fatti Probabilmente Non sono state fatte Neanche 5 assemblee pubbliche Non si contano Neanche sulla dita Di una mano Lo statuto Poteva essere Un'occasione Proprio Per sedersi Sugli allori Cioè fatto benile Incontrando i cittadini Uno poteva campare Di rendita Per 5 anni Dicendo lo statuto Che è l'atto fondamentale Il DNA del nuovo comune Tra l'altro Un comune nato Da una fusione Che il signor sindaco Le chiedo Di guardarmi Perché penso Questo non è Atteggiamento consolo Di tenere la testa abbassata A spippolare il cellulare Cioè non ha Non ha I limiti al suo intervento No no Io mi sto No Sì però Vorrei essere Ecco ascoltata Sì sì Parlo a tutti Sì sì Però lui non mi ascolta Guarda ride Sì 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 Quindi Se fossimo in cerchio Lui è sullo scrum E quindi guardo più in alto Altrimenti E quindi Appunto La commissione Aveva Deciso Di non prendere in considerazione Questo percorso partecipato Incontrando la cittadinanza attiva All'inizio per una questione di tempo Poi per una questione di metodo Perché la commissione Poteva Decidere Senza confrontarsi Con i cittadini E questo per noi Non ha assolutamente senso Cioè il nostro gruppo consigliare Che comunque rappresenta La cittadinanza attiva I movimenti Le associazioni Che sono il nostro scheletro Che sono il nostro Proprio La nostra Come dire Il nostro Unus La nostra Infavitale Sicuramente non potremmo Prescindere da un percorso Che prevedesse un incontro Con la Un confronto con i cittadini Che tra l'altro è scritto Anche nella carta di Pisa Che io vi invito a rileggere Perché probabilmente Avete saltato qualche articolo Quando si parla del rapporto Con i cittadini O del confronto democratico Avete fatto passare Anche una mozione Però come diceva Anche l'ha detto Il sindaco Terreni Lo statuto Non è una cosa importante È un adempimento burocratico Infatti lo statuto Col quale Voi avete governato Nei due anni e mezzo precedente Prevedeva due regolamenti Due regolamenti Che non sono stati mai Redatti Regolamento sul referendum E regolamento Sulla partecipazione popolare Quindi Pensiamo a che considerazione Ha dato Il sindaco E la giunta Del mandato precedente Ecco perché Noi ci tenevamo Al fatto che Lo statuto Non fosse così snello Perché sapevamo Che le cose Che non vengono scritte ora Non vengono scritte Dopo Anzi Noi chiediamo In questa sede A questo punto Che lo statuto Che voi avete voluto Snello Perché con le nostre proposte Si andava a 4-5 pagine in più Nonna A un tomo È importante Che i regolamenti A cui si fa riferimento Vengano trascritti Nel più breve tempo possibile Parliamo del regolamento Di partecipazione popolare Quello sul referendum E quello sugli uffici E sui servizi Non è che facciamo finire Il mandato E questi regolamenti Non sono stati approvati O mi sbaglio Altrimenti Cioè Il discorso di Lasciare tutto In maniera indefinita Giova A chi Non vuole portare Come dire Questi argomenti Applicarli E renderli concreti Poi Parlando del primo titolo Io non so Se voi vi rendete conto Lei ha citato Prima la resistenza Ma la resistenza È stata deliberatamente Tolta Insieme ai principi Antifascisti Dall'articolo 1 Il comune Io capisco La posizione del gruppo Insieme possibile Però da parte del centro-sinistra Tra l'altro abbiamo anche radici comuni Però come noi siamo stati definiti Sinistra radicale Voi parenti di sinistra Avete ben poco Il comune di Lari L'ex comune di Lari Che fa parte Cioè Le Lampi Che commemora Iale a Luglio Il 25 aprile Che dà In titola La una magna A Teresa Mattei La strada E toglie La parola resistenza Dal primo articolo Cioè Posso usare la parola vergogna Oppure il mio atteggiamento Non è consono Perché uso la parola vergogna La devo mettere tra un virgolettato Però Secondo voi Ha senso Da un articolo 1 Togliere Queste due parole Che sono fondamentali Poi ricordo Questo l'ho detto già In altre occasioni Che nella vostra bozza di statuto Nella vostra proposta La parola democrazia La siete proprio dimenticati Non risulta mai Invece Nelle nostre proposte Che hanno semplicemente Valorizzato E ampliato Migliorato Perché noi abbiamo accolto Tutta la bozza Abbiamo soltanto aggiunto Delle cose Che sono all'ordine del giorno In una regione Tra l'altro Come la nostra Voglio dire che È per radici È per definizioni Rossa Quindi parlare di beni comuni Parlare di bilancio partecipativo Parlare di Di referendum Senza cuoro Sicuramente non sono Come dire Argomenti Rivoluzionari O che tolgono Che non fanno dormire La notte Quindi potevano Potevano essere presi In considerazione Perché è vero Che noi siamo stati Chiusi Ma la chiusura È venuta dal fatto Che non c'è stato Un confronto Con la cittadinanza Anche le osservazioni Che sono perdute Dei cittadini È stato un contentino Che avete dato Al nostro gruppo Perché è chiaro Io come consigliere Da sola Cosa potevo fare Così come avete fatto Pubblicità Per la fusione E anche lì Non è che c'è stato Il 90% Che ha votato Un referendum Avete mandato Le lettere a tutti i cittadini Avete fatto La campagna pubblicitaria Avete scritto per il periodico La risposta Che è arrivata È stata Diciamo Di un terzo della popolazione Figuriamoci Sello statuto Se nessuno ne parla Non se ne parla Nella newsletter Non se ne parla Sul sito Non se ne parla Nel giornalino Se non per fare polemica È chiaro Che la cittadinanza Non è informata Se non Quei cittadini Che sono informati Dal nostro gruppo consigliare Oppure da forze esterne Che credono Come dire Che sanno Che lo statuto È un elemento Non soltanto Tecnico Ma può dare Delle risposte In termini Come dire Ai bisogni E alle esigenze Dei cittadini Il tempo No 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 Io voglio rispettare I dieci minuti No 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 Ci sono Sono all'interno No no Sto chiedendo Se oltre No no Va bene No no Perché non vorrei Essere richiamata Perché poi sono Va bene Per il momento Bene Altri interventi Passerai Prego Sì buonasera a tutti Io vorrei fare Una considerazione Di carattere generale Un po' Su quello che è stato L'iter Che poi ci ha portato Stasera Ad approvare Questo documento Un documento Sicuramente importante Per un ente pubblico A cui siamo arrivati Con un determinato Percorso Un percorso Su cui si può Dire tutto Tranne che Non sia stato Curato Con la massima Attenzione Il massimo scrupolo Perché commissioni Non è che ne sono state fatte due Ne sono state fatte Insomma Diverse Quindi secondo me Cioè È stato un lavoro Portato avanti Con la massima serietà Che soprattutto Ha visto Maggioranza E minoranza Almeno per quanto riguarda Il nostro gruppo Collaborare Collaborare In maniera propositiva Ci ha reso partecipi E aperti Al confronto E alla condivisione Una condivisione Che sicuramente Anche per quello Che è il nostro gruppo Non è al 100% Ma noi comunque Questo documento Lo sentiamo anche un po' nostro Perché crediamo Di aver contribuito In maniera attiva Alla stesura Dello statuto Il presidente di commissione Prima ha utilizzato Il termine Abbastanza soddisfatto Ha detto Abbastanza soddisfatto Io credo che Si possa togliere L'abbastanza Cioè Secondo me Dobbiamo essere soddisfatti Secondo me È stato fatto Un buon lavoro E personalmente Come componente Della commissione A me è proprio piaciuto L'atteggiamento Col quale ci siamo messi Al tavolo Cioè Un atteggiamento Costruttivo Di dire Ci si confronta Vediamo un pochino Come possiamo cambiare Quest'articolo A volte Assicondando Anche quelle che erano Le proposte del cittadino Però ecco C'è stata Proprio questa apertura Secondo me Abbiamo lavorato Proprio bene Proprio a dimostrazione Che laddove C'è apertura Laddove viene data La possibilità Anche alla minoranza Di poter portare Il proprio contributo Sicuramente Da parte nostra Non troverete Il muro Ma troverete La massima serietà E responsabilità Io mi auguro Che questo Questo spirito Magari Continui Cioè nel senso Non si fermi Ora al discorso Dello statuto Ma Che continui Anche su altre Altre tematiche Io Viene in mente Le terme La scuola Il regolamento Urbanistico Sicuramente tutte cose Molto importanti Per il nuovo comune E Quindi ecco Ripeto Da parte nostra Sicuramente Non mancherà La responsabilità E la serietà Ecco quindi Mi auguro Che si continui Su questa strada Grazie Chiedo Consigliere Diciotti Sì grazie Dunque Io In quanto faccio Parte della commissione Due Vorrei Soffermarmi Su alcuni punti Posso dire Anch'io Che Abbiamo lavorato Per diversi mesi A questo statuto E sono contenta Ad arrivare oggi Al termine Di questo percorso Mi fa piacere Che ci sia stato Come diceva Il consigliere Passerai Uno spirito Di collaborazione Fra le parti Anche se Devo dire Al mio rammarico Che da parte Del gruppo Una svolta in comune Questo spirito Forse è un po' Mancato Anzi Rispondo Al capogruppo Sul metodo Sulla domanda Che Praticamente Siamo stati Tutti Disponibili A entrare Nel merito Dei punti Però Da parte Del gruppo Non c'era la volontà Di arrivare A uno statuto Condiviso E faccio anche presente Che alla commissione Del 18 novembre Il consigliere Bosco Ha detto Che La proposta Della sua lista Non era modificabile Quindi Questo è un atteggiamento Di chiusura E Se si parla di metodo Bisogna stare un po' Attenti Poi Dunque La bozza di statuto È stata predisposta Con lo scopo Di partire Da una base Di riferimento Per snellire E aiutare Il lavoro Della commissione E a tale bozza Nel corso dei mesi Sono state apportate Diverse modifiche Che poi sono state Condivise Dalla maggioranza Della commissione Entrando invece Più nello specifico Dello statuto E rifacendomi Al titolo primo Possiamo dire Che gli articoli Che ne fanno parte Sono fondanti Perché riguardano I principi generali E quelli che in commissione Sono stati oggetto Di maggior dibattito Sono stati L'articolo 1 Relativo ai principi istituzionali E l'articolo 4 Relativo ai beni comuni Riguardo all'articolo 1 C'è da dire Che la maggioranza In commissione Ha voluto inserire Modifiche Grazie alle osservazioni Che sono arrivate Dai cittadini E sulla base di queste La maggioranza Della commissione Ha concordato Di modificare l'articolo Introducendo un nuovo punto Al comma 1 Che è già stato letto Dal presidente Della commissione Per quanto invece Riguarda L'articolo 4 La maggioranza Della commissione Eccezione del capogruppo Bosco Non ha accolto Le proposte Di modifica giunte Perché In quanto è stata Volontà Della commissione Creare Uno statuto Snello E molti punti Presenti Nelle varie proposte Erano comunque Già contenuti All'interno Dell'articolo 3 Nelle finalità Mentre Un articolo Invece Che sento Particolarmente Importante È l'articolo 2 Che riguarda I principi Dell'attività Di governo A mio avviso È stato giusto Introdurre Al comma 5 Il punto F Dove Il comune Ispira La sua azione Al superamento Di ogni discriminazione Basata sui sessi Assicurando le pare opportunità Perché un domani Questo statuto Lo prenderanno in mano Altri E quindi Bisogna mettere in chiaro Determinate questioni Sarebbe bello Al giorno d'oggi Che tutti si ispirassero A questi principi Ovvero A diffondere Una cultura del rispetto Dell'accoglienza Dello scambio Fra persone E culture differenti Con lo scopo Chiaramente Di abbattere Tutti i pregiudizi E le discriminazioni Basate sul genere Sull'ordine etnica Sulla religione Sull'orientamento Sessuale Sull'età Sulla disabilità Io penso Che sia uno statuto In linea Con i tempi Quindi Con l'auspicio Che nella predisposizione Del regolamento Ci sia Maggiore collaborazione Concludo L'intervento Grazie Bene Grazie Allora A questo punto Passiamo Al secondo Gruppo Di titoli Il titolo Secondo E il titolo Terzo Quindi Anche qui Il dibattito È aperto Chi vuole intervenire Altrimenti Passiamo Al blocco Successivo Se non ci sono Richieste particolari Di intervento Ballatori Ballatori Prego Allora A proposito Dei titoli Successivi C'è un discorso Su quanto riguarda Il bilancio Partecipativo E Allora C'è stato Secondo me Una dimenticanza Io Nell'ultima Commissione Non c'ero E Non ho condiviso Neanche il fatto Che comunque Ad oggi Si arrivasse Ad approvare Soltanto Lo statuto Senza il regolamento Di funzionamento Del consiglio Comunale Questo l'ho detto Anche durante La conferenza Di capigruppo Che tra l'altro L'ho richiesto Proprio per gestire Al meglio La discussione Sullo statuto E per non Svilirla Soltanto Con Un intervento Da parte Di ciascun gruppo E Purtroppo L'articolo Sul bilancio Partecipato È stato Dimenticato Perché noi Ci avevamo lasciato Il 4 marzo In cui La capogruppo Ballatore Ha detto Che doveva Parlare Col suo Gruppo Di riferimento Però Nella commissione Che c'è stata Dopo tre settimane Purtroppo Questo articolo Non è stato Accolto Ma in realtà Non è stato Neanche discusso Perché Il gruppo Insieme Possibile Doveva portare La propria posizione Questa è Semplicemente Una Delle tante Mancanze Quando si parla Poi di cura E di quanto Come dire Si segua Da vicino Il lavoro Della commissione Perché Anche rispetto A quello Che ha detto La consigliera Diciotti Io Non mi ritrovo In tutto Perché Ad esempio L'articolo Sui beni comuni È stato Un articolo Che abbiamo Proposto Noi Poi La nostra proposta Era più Articolata E Chiaramente Venuto Come dire La sintesi È stato Soltanto Di considerare Il castello E le terme Di Casciana Noi Parlavamo Anche Di Altri Concetti E poi Anche rispetto Al Al discorso Sul referendum Comunque Noi Chiedevamo Un referendum Senza quorum Si era detto Durante le commissioni Che non era possibile Parlare di Un referendum Propositivo Che non era previsto Dalla legge Invece Comunque Abbiamo visto Che sia il governo Amato Già dal 2000 L'aveva previsto E poi ci sono anche Dei comuni Della nostra Della regione Che l'hanno Che l'hanno previsto Quindi Anche lì Comunque Sono state dette cose Che non sempre Corrispondevano Alla realtà Pure O comunque Non c'era la volontà Così come Probabilmente Non c'era la volontà Cioè anche oggi So che se non ci fosse Stata questa conferenza Avremmo Come dire Discusso Il minimo Sullo statuto Proprio perché Sono quelle cose Un po' rognose Un po' faticose Un po' dure Che bisogna Che bisogna Come dire Su cui bisogna andare Anche abbastanza veloci Perché c'è tanto da fare Perché emerge Comunque da questo comune Che c'è Un po' di Affaticamento Un po' di Un po' probabilmente Anche di lentezza Nel procedere Nel fare le cose E quindi È vero che siamo stati Cioè Quanti mesi Da ottobre A oggi Sono passati circa Sei mesi C'è stata un'altra iniziativa Sempre organizzata Dalla rossa A gennaio Ma non è che c'è stato Uno sviluppo Non c'è stato neanche La maggior parte Delle osservazioni Non sono state accolte Soprattutto quelle Come dire Quelle più importanti Poi è vero Che la nostra proposta Era chiusa Ma come dire Era blindata Ma se avevate interesse A portare dentro qualcosa Lo portavate Così come è successo Per i beni comuni E così Probabilmente Anche per altri concetti Che ripeto Comunque sono presenti Nei comuni Anche guidati Da sindaci Del PD Io non capisco Perché il bilancio Partecipato Che è uno strumento Certo Mica devi andare A discutere I costi fissi Di un comune Però capire Quali sono le esigenze Delle varie Identità Presenti nel comune Cioè non mi sembra Una cosa come dire Fuori dalla Dalla modernità Dei tempi di oggi Anche soprattutto In un momento di crisi Un momento in cui ci sono anche i soldi Non è che non ci sono soldi Di cosa vado a discutere O soltanto costi fissi Ma in questo quinquennio Che abbiamo diverse variabili Rispetto al bilancio partecipato È inutile Enunciare il bilancio Come faremo Nelle prossime settimane Fare assemblee Per dire Quello che è stato Già deciso Dalla giunta Sarebbe interessante Dialogare con i cittadini Per capire Quali sono le esigenze Che comunque cambiano Dalla pianura Rispetto Alla collina E quindi Secondo me Questo passaggio Non è stato fatto Il discorso Cioè sicuramente La commissione È un passaggio fondamentale È chiaro che deve ragionare Su argomenti Come gli statuti Lo statuto I regolamenti Però Non mi avete ancora risposto Perché non c'è stato Un confronto Con la cittadinanza Per accogliere Come dire Le riflessioni L'osservazione Poi la commissione Poteva anche dire Io aderisco Non aderisco Però dando una motivazione Non è che si fa Un lavoro a contrario Che c'è La bozza Nello statuto Nello statuto Della commissione E poi Se mai si fanno Uno o due assemblee pubbliche Per dire Questa è la bozza Che abbiamo deliberato Però secondo me In un momento Così delicato Anche dove non c'è Coesione sociale Nel nuovo comune Era interessante Fare un passaggio Ma probabilmente Questo andrebbe fatto Per come dire Per le questioni Importanti Ma che forse Voi non avete ritenuto Importanti Perché lo statuto È un adempimento Tecnico Burocratico Cavilloso Di passaggio Che deve essere snello Sono tante le cose Da fare Però secondo me Lo statuto Poteva essere Una piattaforma Una traccia Un binario Nel quale Come dire Collocare davvero Un discorso Di rapporto Con i cittadini Di confronto democratico Di apertura A me sembra Che comunque Ci sia la paura Del confronto Con gli altri Il sindaco Terrain Mi ha detto Che lui non ha Paura di nulla Però invece A me sembra Che ci sia stata Un po' di paura Perché non ascoltare Le voci Degli altri Sono state ascoltate Attraverso delle osservazioni Ma queste osservazioni Sono state riportate Altrano della commissione E anche lì È stato fatto Come dire Un esamificio Sì no Sì no Sono state Accolte le postille Le cose davvero Come dire Più insignificanti La punteggiatura Oppure una parola Che cambiava un'altra Però sul referendum Senza quorum Lì c'è stato Un no secco Che tra l'altro Portava anche Il nostro gruppo consigliare Cioè noi comunque Rappresentiamo Non soltanto I mille e sei cittadini Che ci hanno dato il voto Ma rappresentiamo Anche tutta la cittadinanza attiva E tra l'altro Questo referendum Senza quorum È stato chiesto Anche da tantissime altre persone Alcuni ci hanno votato Altri no Però non può essere Spazzato via Semplicemente perché Cioè qual è la motivazione Diceva il capogruppo Cecotti Perché ci può essere Un abuso di referendum Però su questo Ci siamo confrontati Tante volte Che abuso di referendum Se un referendum Non è mai stato fatto Nei due ex comuni E tra l'altro Non c'era neanche Il regolamento Adesso io spero Che almeno venga fatto Il regolamento E vediamo se comunque Nei prossimi mesi O anni Un regolamento Come dire Un referendum Secondo le regole Che voi avete stabilito Sia comunque Venga fuori Ci sia la possibilità Con questo 10% Con le Come dire Con i paletti Che comunque Sono stati Sono stati posti Però secondo me Questo statuto È stato un percorso Negato Di democrazia Di partecipazione Popolare Secondo me Non poteva essere fatto così È chiaro Con un incontro organizzato Cioè comunque Ad agosto Dove ci eravamo presi L'impegno Di confrontarci Con i cittadini Non potevate pensare Che il mio passaggio In commissione Fosse Come dire Definitivo Fosse soltanto lì Cioè ci deve essere Una sintesi Tra strumenti Democrazia Istituzionale Rappresentativa Perché noi chiaramente Siamo stati eletti Ma ci vuole anche Un passaggio Con quelli di Come dire Con gli strumenti Democrazia Rappresentativa Perché I cittadini Anche se Quando Anche se fanno Delle osservazioni Che non vengono accolte Però se uno Dà delle motivazioni Il fatto che abbiano partecipato Sono comunque contenti Però Secondo me È proprio È lì che c'è La partita da giocare E lo statuto Diciamo la verità Col fatto che Era partita ad ottobre Secondo me L'intenzione Era quella di Chiudere il gioco La partita in un mese Perché la scadenza Era a fine novembre Quindi partire Molto in fondo Per Per Accimolare Appunto Qualche Qualche commento Qualche Qualche osservazione Da parte degli altri gruppi Forse non si immaginava Che noi avremmo Tra virgolette Rotto le scatole E che comunque Volevamo un percorso Diverso Alternativo Di ascolto Noi abbiamo Volevamo L'ascolto Volevamo incontrare I cittadini Ma non a cose fatte Durante Bene Prima di dare la parola Al consigliere Ballatori Che si era prenotata Devo fare una precisazione Perché Diciamo A me sta bene tutto Insomma anche nella dialettica Tra maggioranza E opposizione Che ci siano anche toni duri Mi va Mi va bene Ma che si tenti in questo Di infangare La reputazione Dei funzionari Questo non mi va bene Quello che è stato detto Sul referendum Propositivo È La sacrosanta verità Che il nostro ordinamento Non lo prevede Come fonte del diritto Perché il referendum Propositivo È una fonte del diritto Al pari Del referendum Abrogativo Quello Che c'è in statuti Anche di altri comuni A noi vicini Non è Il referendum Propositivo È un referendum Consultivo Anticipato Che è perfettamente Possibile Da svolgere Secondo La normativa Dello statuto Che stasera È in discussione Quindi Le considerazioni politiche Sono tutte legittime Infangare Il nome Dei funzionari Che vengono accusati Di dire Una cosa Per un'altra Questo Io non ve lo consento Né ora Né in futuro Sia chiaro Consigliere Ballatori Prego Dunque Sicuramente Il titolo Secondo È il titolo Che ha Destato Più discussione In commissione Ci siamo Più volte Interrotti E riaggiornati Specialmente Sulla parte Del referendum Io devo fare Una piccola Premessa Con riferimento A Non solo A questo titolo Ma insomma Nel complesso E poi approfondirò Su questo titolo Alcuni aspetti Il percorso Che ci ha visto Partecipi Insomma Di questa Che è una La fine Una grande sfida Perché insomma Si trattava Di fare un percorso Diciamo Epocale Perché Se volessimo Fare un paragone Irriverente Come se stessimo Stilando la costituzione Del nostro comune Quindi se ci stessimo Dettando le regole Della Convivenza Sul nostro territorio Un compito Che ci è stato affidato E che comunque sia Poteva essere iniziato prima Sicuramente Anche da parte nostra C'era L'auspicio Che fosse uno Dei primi atti Che la commissione Prendeva in mano Che esaminava Ma che comunque Insomma Alla fine È partito E ha avuto Più Più momenti Di scontro Di condivisione E ha portato Poi a quello Che è Il risultato Il risultato Di oggi Che bello Brutto Che possa sembrare Comunque sia Sono convinta Che rappresenta Un documento Assolutamente Valido E efficace Oltre che Comunque Molto snello E molto più Diciamo Fruibile Di tanti Di tanti Discorsoni Che potevano essere Fatti Su Su ogni articolo Il nostro Sentimento Il sentimento Con cui ci siamo Avvicinati Alla discussione Di questo statuto È un sentimento Che Trae spunto Che può essere Diciamo In qualche modo Avvicinato A un episodio Che è avvenuto Nell'assemblea Costituente Forse è un paragone Ripeto Un po' irriverente Ma mi ha colpito Molto Quando ho letto Insomma Alcuni documenti E si riferisce Appunto A un episodio In cui Aldo Moro Rispondendo A Togliatti Che aveva parlato Di costituzione Non ideologica Diceva Che era Un'espressione Che non poteva Non trovare Il proprio consenso Preoccupati Come siamo Di realizzare Uno strumento Efficace Di convivenza Democratica Ecco Penso Che Il nostro Gruppo Si sia mosso Proprio Su questa Lina Su questo Sentimento Di darsi Una costituzione Uno statuto Che non fosse Diciamo Additabile Con toppini Politici Ma che fosse Veramente Lo statuto Di tutti E su questo Ci siamo scontrati Più volte Anche Con riferimento Torno un passo Indietro Ai principi Generali In particolar modo Sull'articolo Uno dove si faceva Riferimento Al movimento Di liberazione Nazionale Che comunque È un movimento Qui lo dico E probabilmente Qualcuno Non lo condividerà Che comunque È rappresentato Un intero Popolo E quindi Di fatto Rappresenta Anche Il Sicuramente Insomma Tutti i nostri Pensieri Tutte le nostre Ideologie Con questo Spirito Abbiamo affrontato La discussione Di questo Statuto Sia Nella parte Di principi generali Ma ancor di più Nella parte Appunto Relativa All'ordinamento Agli istituti Di partecipazione Di diritti Dei cittadini Che ripeto È forse Il titolo Che ha Diciamo Destato Più discussione Di tutti Una delle Mi fa piacere Sottolineare Questo perché Penso che sia Un merito Che ci dobbiamo Prendere Noi della lista Insieme È possibile Perché comunque Abbiamo Chiesto Con insistenza E c'è stato Appunto Riconosciuta L'importanza Di una commissione Di controllo Garanzia Perché purtroppo Diciamoci la verità La minoranza Ha ben pochi strumenti Quando Siede su questi Banchi Per poter Diciamo Far valere Le proprie Interpretazioni Degli atti Che vengono Comunque fatti Dal consiglio Quindi L'aver Insistito Su questo punto E l'aver ottenuto Anche la presidenza Di questa Commissione È per noi Veramente Un 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 pregio Di cui Insomma In qualche modo Dobbiamo Sottolineare Un controllo Che appunto Sarà un controllo Sull'attività Politico-amministrativa Del Consiglio E che potrà Quindi Insomma In qualche modo Fornire Una garanzia In più Per i cittadini Passando poi Naturalmente Ai cardini Di quello Che è stata La discussione Che si è Incentrata Sui referendum La nostra Posizione Diciamo È sempre Stata Abbastanza Coerente Penso Fermo Nestando Che ci siamo Anche comunque Posti in discussione Tante volte Nell'esaminare Quelle che erano Poi le proposte Che erano Arrivati dai cittadini Perché Se è vero Che in una prima fase Avevamo comunque Individuato Una certa Una certa Diciamo Definizione Di questi istituti Poi In realtà Insomma Alla luce Delle osservazioni Dei cittadini Ci siamo Anche posti In discussione Se effettivamente Questa Questa definizione Che avevamo dato Era la La più corretta O meno E anche qui Insomma Mi dispiace ricordarlo Ma io Voglio sottolinearlo Siamo stati Un pochino Additati Di incoerenza Perché avevamo Detto in un modo E poi Solo perché Esaminavamo E davamo importanza A quello che erano Diciamo Le 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 risultanze Delle osservazioni Iscritte dai cittadini Ci sembravamo Cioè Ci sentivamo Comunque in parte Di poterle anche Assecondare Con riferimento Al referendum Noi siamo sempre stati Abbastanza fermi Però nel considerare La necessità Di un quorum Per quanto riguardava Il referendum Abrogativo Perché comunque Effettivamente Ha un'incidenza Nella sfera giuridica Delle persone Che è Imprescindibile Cioè È assoluta E quindi Insomma È necessaria Una Almeno a nostro avviso La riconoscimento Di un quorum Ai fini della validità Di questo referendum Ci siamo invece Sempre combattuti Per anche Un riconoscimento Della possibilità Di non ammettere Alcun quorum Per il referendum Consultivi Anche perché Nello stesso articolo Si prevedeva La possibilità Del Consiglio Comunque Di disattendere Quello che erano Le determinazioni Che arrivavano Da questo referendum Consultivo Uno può dirmi Benissimo Ma allora Che si fa a fare Ebbene Ma è comunque Un segno Diciamo Importante Che È un strumento Che comunque La cittadinanza Ha Per poter Diciamo Esercitare In modo diretto I propri I propri diritti Quindi Ci avrebbe fatto piacere Che quantomeno Su questo aspetto Quindi sul referendum Consultivo Ci fosse stata Una maggiore apertura Da parte della maggioranza Per quanto riguarda Gli altri aspetti Che ha sottolineato La Consigliera Bosco Mi permetto Solo di fare Una piccola osservazione Che ho comunque Più volte Fatto in commissione Il Consigliere Diciotti Penso che se lo ricordi Bene Anche allorquando Sono state esaminate Delle modifiche Che venivano apportate Da parte Della stessa Delle osservazioni Che arrivavano Comunque Dall'area Dall'area Da cui Insomma Proviene La Consigliera Bosco La discussione Rimaneva Diciamo Dal punto di vista La Consigliera Bosco Abbastanza sterile Perché eravamo Più noi E la maggioranza A volere In qualche modo Esaminare Cercare di Magari con una Formulazione Un pochino più Snella Duttile Arrivare a una Condivisione Anche di alcuni aspetti Che oggettivamente Potevano essere Condivisibili E mi riferisco Magari a un aspetto Che può Verrà trattato Nella Nella prossima Nel prossimo momento Di discussione Relativa alla Trasparenza Quindi ecco Mi permetto solo Di sottolineare Che il nostro Gruppo Ha avuto una lucidità E un sentimento Penso Veramente Oltre che Insomma Assolutamente Civili E rispettosi Delle istituzioni Anche Costruttivo Propositivo E rispettoso Anche di Quelle che erano Le osservazioni Che arrivavano Dai cittadini Che logicamente In parte Condividevamo In parte Non condividevamo Ma questo Rientrerà Nella sfera Del diritto Di critica Che comunque Ciascuno di noi Può avere Al di là Appunto Di ciascuna Di qualsiasi Ideologia Che ciascuno Di noi Vuole rappresentare Grazie Grazie Cecotti Beh Come Tutti ormai Hanno detto Siamo finalmente Giunti Alla fine Di questo Percorso Che Diciamo Non è stato Semplice Per vari motivi Sono già stati Spiegati E Non Devo dire Da come Eravamo partiti Nelle prime Nelle prime sedute Forse Non Nemmeno Avrei chieduto Di arrivare A un A un Traguardo Come questo Di condivisione Ci sono stati Scontri Anche abbastanza Diretti Diciamo Nelle prime fasi Dove Un po' Come diciamo Così Ci studiavamo Insomma Quella è stata L'impressione Poi quando Siamo partiti Veramente Con il lavoro Delle commissioni Si è vista La volontà Di chi Aveva voglia Di arrivare A A fare qualcosa Di concreto Per i nostri Cittadini Riferendomi Riferendomi A Consigliere Bosco Devo dire Che gli accordi Vanno cercati Non vanno Imposti Con arroganza Come è stato Fatto Perché Noi abbiamo Dato dimostrazione Con i fatti Che quando Abbiamo trovato Una sponda Noi Abbiamo Ci siamo Aperti Abbiamo Anche a volte Dovuto Come potete dire Limare Arrotondare Gli spigoli Che c'erano Quando Da entrambe Le parti C'è stata La volontà Di arrivare A un accordo Ci siamo arrivati Certamente Come si Come tutti Ognuno ha detto È un ottimo È un ottimo Risultato Quello che abbiamo raggiunto Ognuno Forse Se l'avesse fatto Da solo L'avrebbe fatto Diverso Noi avremmo Potuto farlo Tranquillamente Da soli I numeri Ce l'abbiamo Ma non è la certa Intenzione Perché Questo A mio avviso Deve essere Qualcosa Di Del più laico Permettetemi La parola Un po' abusata Qualcosa di più laico Possibile Perché debba Rimanere Il più a lungo Possibile E che non magari Ogni giunta Che si insedia L'avesse voluto Modificare A suo piacimento O a sua ideologia A secondo Del caso E Dunque Io devo dire Che Riguardo al metodo Si può dire Quello che ci pare Poi i risultati Sono alla luce Di tutti Perché Le proposte Poi venute Da cittadini Salvo Radissimi casi Sono poi State portate Da gruppi politici La maggior parte Era un copia e incolla Fatto anche a volte Anche maluccio Perché Scritto tutto Con la solita penna Solita carigrafia A volte sbagliando Anche date Cose Nella fretta Di riempire fogli Ma comunque Poi in realtà Stringi stringi Si trattava Di sette O otto Proposte Concrete Se si toglie Quelle che possiamo A volte abbiamo avuto difficoltà Anche a comprendere In commissione Quando Più di volte Erano Opinioni Diciamo Ideologie E non si riusciva Poi a stringere E a capire Neanche a volte Dove volessero andare A cambiare Lo statuto Perché Andavano fuori strada Quando si parla Di bilancio Partecipato Di Noi Come ho avuto Anche modo di dire Anche nell'incontro Che è stato fatto A Perignano Il bilancio Partecipato Che veniva Richiesto Era una cosa Che Credo sia difficilissima Da Da mettere In pratica Se si va a ricercare Le vecchie Consulte di quartiere Di 40 anni fa O O roba del genere Io credo che In un momento di In cui il mondo Purtroppo Per fortuna Corre così veloce Io credo che Bisogna anche Che chi è Da questa parte Deva avere Sì La volontà di ascoltare Ma anche il coraggio Di fare scelte E questo Non lo rivendichiamo Poi Toccando Il Diciamo Il Il punto Dei referendum Io su questo Sono stato Sempre molto Intrassigente Portando La nostra La nostra Posizione Perché Come ho sempre detto E spero che sia l'ultima volta Che lo ripeto L'ho ripetuto All'infinità Io volevo che questo Fosse uno strumento Che va usato E non abusato Quando parlo di abuso Non è una cosa detta a caso E' una cosa ben chiara Perché se si leggeva i numeri Proposti Le percentuali Scusate Questa Io Voglio fare un po' cesta L'intenzione Però Sembrava una cosa fatta Su misura Su qualcuno Perché potesse usare Con i suoi propri numeri I propri mezzi Questo strumento Per una sorta Di campagna elettorale Per portare Le proprie posizioni Magari ogni anno Fare 4-5 referendum Magari tutti insieme Spendendo Quello che più o meno A oggi si sa Che costa dai 20 ai 22 mila euro Per fare un referendum Tutti gli anni Può portare magari Al voto Poche Decine di persone Fregandosi il risultato Ma così Facendosi Magari Portando Diciamo Alla Alla ribatta Dell'opinione pubblica Le proprie istanze E le proprie ideologie Secondo me Questo sarebbe stato Uno strumento sbagliato Con Diciamo I paletti Certo I paletti Che abbiamo Che abbiamo Messo Abbiamo fatto Degli strumenti Che possono essere Di interesse Veramente Per i nostri cittadini Qualora Un ha nutrito Gruppo di persone Sentano Un Un problema Suo E un problema Reale Questo referendum Sicuramente Se è ben Diciamo Sentito Da un gruppo Importante Di persone Il 10% Che viene richiesto Degli iscritti Poi sono Sono numeri Io mi auguro Che poi Con il risultato Anche se è un Riferendo consultivo Poi Questa Maggioranza E tutte quelle Che vedranno dopo Ne prendano atto È vero Che possano anche Rigettarle Ma sarebbe Secondo me Molto scorretto Questo Me l'ho Sempre detto E me ne Vanto Qualunque Se fosse Il risultato Secondo me Le amministrazioni Dovrebbero Prenderne atto Perché se si porta Un risultato Di un certo numero Di persone C'è una volontà Popolare Non va Diciamo Rigettata Admittente Sul referendum Propositivo Ha già disposto Il sindaco Per cui Non vado oltre Rientrando In quello Che poi È Diciamo Il Tutto ciò Che Che è scritto Diciamo In Sullo statuto Mi interessava Mettere Una Un appunto Su ciò Che riguarda Quello che abbiamo Messo in importanza Sulle associazioni Sul volontariato Perché sono Due Forze Che abbiamo Sul territorio Che Qualunque tipo Di amministrazione Che c'è Che verrà Ne dovrà Prendere atto Ne dovrà valorizzare L'importanza Sempre In maniera Diciamo Il più possibile Perché Sono Degli strumenti Che sono Fondamentali Per la vita Del nostro Territorio Per adesso Mi fermo qui E poi Lascio Mi considerazioni Nella Parte Diciamo Della Finale Grazie Allora passiamo Al Terzo blocco Della discussione Sono Gli ultimi Titoli Quarto Quinto Sesto E Settimo Di nuovo Il dibattito È aperto Chi vuole Sì Allora Precisiamo Questa sera Sono stata richiamata Due volte Non era mai accaduto In undici mesi Mi sembra molto strano Non so se è perché Ci sono delle altre difficoltà Io non ho assolutamente Infangato Nessun funzionario Io semplicemente Dico di guardare Un po' più lontano Di andare oltre La burocrazia ordinaria Certo non si infangano I funzionari Quando come dire Uno sottolinea Degli aspetti Che nell'amministrazione Comunale Non vanno Dalla trasparenza O dall'albopretorio Quando si dice Che non vengono pubblicati Contempestività Anche lì Non credo che Uno voglia infangare Il funzionario Comunque a parte questo Allora Io sono contenta E forse anche fiera Se sono arrogante Nei confronti Di consiglieri Che sono a loro volta Arroganti Nei confronti Dei cittadini Perché questo Il problema Il capogruppo Ceccotti Mi ha accusato Di essere arrogante Ma io non penso Affatto di essere stata Arrogante O presuntuosa Cioè Il problema è che Se c'è un contesto Amministrativo Un po' Devo essere attento Un po' conservatore Autoritario Che invece di governare Forse Prova a comandare E' chiaro Che noi cerchiamo Di fare Come dire Opposizione Rispetto anche A un atteggiamento Una forma mentis Una cultura Che probabilmente Non condividiamo Abbiamo firmato Lo stesso manifesto Dell'Arci Sulla cultura Ma probabilmente Ci sono visioni diverse Su tanti altri aspetti Quindi Io ritorno a ripetere Cioè Questo è lo statuto Della commissione Ma voi cosa ne sapete Cioè Dei cittadini Di cosa interessa a loro Cioè Il capogruppo Cecotti Dice L'interesse dei cittadini Ma quale interesse Anche queste osservazioni Che sono arrivate Le osservazioni Quelle scritte a mano Erano molto semplici I capogruppo Cecotti Quella più Come dire Articolata Era sul referendum Senza cuore Quorum Le altre erano Frasi molto semplici Ed essenziali Quindi non capisco Quali osservazioni Fa riferimento Comunque Io dico semplicemente Che Secondo me Dobbiamo Dobbiamo decidere Se Cioè Bisogna capire Se Gli amministratori Vogliono essere Come dire Degli esattori Degli applicatori Di IMU Di Tasi E di Tari Oppure vogliono essere Rappresentanti Degli abitanti Della nostra comunità E Noi crediamo Che lo statuto Sia un percorso Che serve appunto Ad opporsi A chi comunque Cerca di Sfruttare I finanziamenti Dei servizi pubblici E di fatto La vita dei cittadini Ignorandole Le richieste Bisogni E È un processo Di democrazia dal basso Di discussione E noi diciamo Che è il momento Di fare politica Non nelle stanze chiuse Non Attraverso scelte opache Che sono soltanto Espressioni di numeri O comunque di tempi E Sulle osservazioni Non c'è stato confronto Ma soltanto Un sì Un no Come abbiamo già detto La pigrizia burocratica Di chi ha paura Di cambiare E di perdere Anche posizioni Lo statuto È molto generico Poi si vedrà Nel futuro A me questo preoccupa Tanto Questa Come dire Questo futuro Questo scenario Molto Indefinito E Purtroppo Comunque Uno statuto Indefinito Crea anche Dei disagi Ai cittadini Perché ne subiscono Gli effetti Negativi Dovevamo essere Trasparenti Io ripeto C'è la carta di Pisa Io penso di Cioè assumo Fino in fondo Il valore etico E I principi Della carta di Pisa Secondo me Bisogna fare una riflessione Tra l'altro Andrebbe anche Ripresentata una mozione Perché ci sono alcuni Amministratori Che comunque fanno parte Dell'ex communication Terme E che a suo tempo Non Non l'hanno Come dire Votata Probabilmente Andrebbe Anche qui andrebbe fatto Come dire Una nuova Bisognerebbe Non lo so Bisognerebbe presentarla All'ordine del giorno Affinché tutti In maniera Unanime Siamo Come dire Condividiamo Questa 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 carta di Pisa E Noi Penso che i cittadini Non sono soltanto Dei contribuenti Cioè sono anche Dei soggetti Che devono Come dire Che devono dire la loro Su questioni Come dire Che li riguardano Se lo statuto Non riguarda i cittadini Ditemi voi Su cosa Devono Esprimere La propria opinione Tra l'altro Io dico A voi Gruppo Della maggioranza Dove sarete Domani mattina Perché voi avete presentato Una mozione Sempre per un discorso Di coerenza E di senso E di motivazione Una mozione Che riguarda La campagna Contro il TTP Sul sito del comune Ad esempio Non c'è nessun riferimento Nella vostra mozione Parlavate anche Lei l'ha presentata Assessore Coppini Di iniziative Ma voi domani sarete lì Domani mattina Perché noi ci siamo Voi non so dove sarete Però se si attiene Un po' di più Al tema Della discussione Io mi attengo Al tema Della discussione Perché Anche questo Anche questo È statuto Anche questo Significa parlare Di statuto Mi deve dire altro No Ok No no Perché stasera Sembra che No no Quindi È importante Allora Sul discorso Anche del bilancio Partecipato Cioè avete scritto Della delibera Sullo statuto Qualcosa che non è stato fatto Un articolo Che non è stato Discusso Anche dal gruppo Insieme Possibile Cioè Non ha Non so Come potete Aver dimenticato Cioè che comunque Il gruppo Doveva dare La sua Come dire Dire sì o no Avete detto Non è stato accolto Ma per noi era accolto Per voi non era accolto Ma per gli altri No Non si sa Perché questa Non è stato Da verbale Da verbale Del 4 marzo Dell'ultimo verbale L'articolo 40 È stato saltato Ma è sempre una cosa Cioè fatta a modo Fatta bene Per chi segue i lavori Della commissione Ecco perché Volevo essere presente Perché tanto so Che se non si è presente Poi succede sempre qualcosa Perché lo statuto Bisogna tirare via Come si può deliberare Stasera sullo statuto Senza avere Il regolamento di funzionamento Del consiglio comunale Anche lì So che è stato deciso Nell'ultima commissione Io non ero presente Ma non era scritto Nel verbale Se non l'avessi saputo Alla conferenza Secondo me Le due cose vanno Di pari passo Siamo arrivati ad aprile È vero che adesso C'è il consiglio sulle terme Il consiglio sul bilancio Ma si poteva aspettare Qualche altra settimana Visto che non è arrivata Cioè non c'è questo termine Perentorio E siamo andati avanti Ad libitum Quindi Io ho davvero difficoltà Davvero difficoltà Perché Mi sembra che comunque Siamo su piani E su livelli molto diversi Anche rispetto Alla partecipazione popolare Anche quello di stasera Probabilmente deve essere Un consiglio comunale aperto Forse non soltanto Quelli sulle terme Devono essere consigli comunali aperti Dove c'è un confronto Con la cittadinanza Ditemi voi Anche il discorso Delle assemblee pubbliche In 11 mesi Comunque si è fatto Si è fatto Poco Non si sono mai incontrati I cittadini E quindi Io non lo so Davvero Mi sembra di Sono comunque Sono in difficoltà In difficoltà Perché secondo me Questa cosa Anche quando c'è Quando ci sono delle esigenze No? Che comunque Dei cambiamenti Vanno presi in considerazione Cioè non vanno semplicemente Tagliati via Eliminati così Senza appunto dare Dare una motivazione Cioè se c'è una Una richiesta Rispetto ad alcuni temi Che sono ripeto Molto molto semplici Quello della trasparenza L'accesso civico Il referendum Senza quorum Il bilancio partecipato I beni comuni L'acqua Che comunque Anche le risposte Che noi Candidati sindaci Abbiamo dato l'anno scorso Per tutti Era un bene universale Per tutti Era un bene comune Voglio dire Non era un problema Ampliare il discorso Sui beni comuni Oltre a mettere i beni Immateriali Si potevano mettere Anche beni materiali E beni digitali Cioè sono comunque Questioni Trattate Penso da molti comuni Anche della nostra Regione Della Valdera Comunque non sono cose Astruse e lontane Dal nostro Dal nostro quotidiano Mi sembrano comunque Concetti Molto molto semplici Cioè vi ripeto Che andavano secondo me Ampliati Il nostro auspicio È che comunque I regolamenti Che prevede lo statuto Vengano scritti Nel più breve tempo possibile In modo da Come dire Da dare poi Seguito A quello Che è uno statuto snello In maniera Che è molto Che non è preciso Sì Prima di Far continuare La discussione Coppini Perché interviene Per fatto personale Dato che è stato chiamato Causa Mi sembrava Buonasera D'aver Sostenuto Con sollecitudine Il fatto Sul TTP In merito Al trattato Ho visto stasera L'Unione E ho sollecitato Che se ne parlasse Anche laggiù Tra l'altro Ho visto Che c'era anche Un'interrogazione Che ha presentato lei Circa la prossima Rionione Che si tirerà laggiù Non mi sono tirato indietro Caldeggio Questa situazione Perché tengo Soprattutto Al territorio I nostri prodotti E all'interesse Generale del paese Per cui mi sento Chiamato in causa Ma non Cioè Non per questo Mi tiro indietro Solo questo Volevo ti precedere Sì Bene Altre interventi Su Questo ultimo blocco Vuodo Allora Per quanto riguarda Questa terza parte Discussione Vorrei fare tre appunti Diciamo Sui tre titoli Principali Sul quarto Quinto E sesto In merito Alla disciplina Delle forme Di gestione Dei servizi Abbiamo fatto Pienamente riferimento Al testo unico Per gli enti locali Che prevede Per il nostro comune La possibilità Di gestire i servizi Sia in forma Associata Insieme ad altri enti E sia tramite La partecipazione A società Di capitali Sempre nel rispetto Comunque Degli interessi Dei cittadini Intesi Come Consumatori E come utenti Cercando quindi In questo modo Di avere una forma Di gestione Cioè più moderna Senza Star dietro A pensieri retrogradi E ormai passati Secondo i quali I servizi Dovevano Essere gestiti Essenzialmente All'interno del comune Col personale del comune Mentre In merito All'organizzazione Degli uffici E del personale Crediamo Che deve essere Finalizzata All'efficienza All'imparzialità E alla Trasparenza Amministrativa Perciò abbiamo Pensato Di individuare Praticamente Fra I soggetti Responsabili Praticamente La responsabilità Dei soggetti Diciamo Apicali Del comune In base All'autonomia Decisionale Che hanno I soggetti Stessi In particolare Vorrei far Riferimento A una cosa A delle osservazioni Arrivate Sull'articolo Anche Sull'articolo 47 Ne sono arrivate Tante Ma tutti guidati E praticamente La richiesta Era unica Dove veniva Chiesta La rotazione Dei responsabili Però la maggioranza Della commissione Cioè La maggioranza Della commissione Ha ritenuto Di respingerle Perché Cioè Per avere Un'organizzazione Efficiente E anche Cioè Giusto Evitare Queste rotazioni Perché Come dire I vari responsabili Anche Il resto Del personale Per svolgere Il proprio lavoro In modo Continuativo Possiamo far Rotare In continuazione Questo anche Perché c'è Un'amministrazione Che si pone Degli obiettivi A dei progetti E spesso Questi obiettivi E progetti Superano Tranquillamente La durata Dell'anno Poi inoltre In un comune Piccolo Come il nostro È anche Difficile Cioè Far ruotare E sostituire I vari funzionali Perché Proprio Per la natura Del ruolo Che tengono Devono avere Delle professionalità Specifiche Spesso Non è certo Pensabile Di mandare Un architetto A fare il dirigente Alla parte economica O viceversa Insomma Non abbiamo Tantissime figure All'interno del comune Per consentire Queste cose Poi in merito All'autonomia finanziaria Volevo Sottolineare Che abbiamo Improntato Quest'articolo Praticamente Proprio sul fatto Che il comune Deve prestare Una particolare Attenzione A quei soggetti Diciamo Della popolazione Che hanno Difficoltà E problemi Quindi Ne abbiamo tenuto Ne terremo presente Sia nel sistema Tributario Sia in quello Tariffare Come già aveva Citato anche Marco Concludo Uscendo Diciamo Dal merito Di questi titoli Anche io Con una considerazione Che si allinea Un po' A quella Generale Di tutti Esprimendo Il mio Dispiacere In merito Alla mancata Condivisione Da parte Del gruppo Rappresentato Da Bosco Che non è Certo Diciamo Dovuta Alla Nostra volontà In quanto In commissione Più volte Abbiamo provato Tutti i consiglieri Passerai Bosco Fra Cassi Con il qui presente Noi quattro Della commissione A trovare Condivisione A cercare di aprire Anche la discussione E cercare di essere Costruttivi Ciò purtroppo Non è Avvenuto Quindi Questa mancata Condivisione Mi viene da ribadire E sottolineare Che è frutto Esclusivo Dell'atteggiamento Di chiusura totale Da parte Del gruppo Una svolta in comune Che avrebbe voluto Come già citato Anche prima Imporre i propri Principi e metodi E addirittura Come ha citato Anche Veronica Proporre una propria Bozza di statuto Chiusa Quindi non modificabile Insomma Invece Anch'io vorrei Ribadire Praticamente La mia soddisfazione Per essere giunti Alla condivisione Con il gruppo Rappresentato Dallaboratori Grazie anche Proprio All'atteggiamento Costruttivo Che ha tenuto Il gruppo Di minoranza Ma soprattutto Questo è avvenuto Anche grazie Alla nostra apertura E alla Diciamo Disponibilità Che abbiamo avuto Tenendo sempre Fermi però I nostri principi Rispetto ai quali Credo che Ci siamo sempre Attenuti E non siamo Scesi a compromessi Sui principi Sono importanti Concludo Grazie Ci sono Altri interventi Ballatori Riferimento A quest'ultima Parte Del nostro Statuto La mia Considerazione Sarà limitata Esclusivamente O comunque Prevalentemente Alla gestione Dei servizi E delle funzioni Perché È un aspetto Sicuramente Che Ha Delle ripercussioni Importanti Sul nostro Comune E Ancora di più Sul nostro Comune appunto Appena nato Perché La questione Relativa alla Gestione Dei servizi La gestione Associata Dei servizi E delle funzioni Specie Nei comuni Di piccole dimensioni Ha assunto Negli ultimi anni Un ruolo Centrale Perché Comunque La maggioranza Dei comuni Si è dovuta Confrontare Con L'influenza Dell'ampiamento Delle competenze Locali Che hanno Dispiegato Sull'organizzazione Degli enti Stessi Un effetto Importante I piccoli Comuni Stanno affrontando Appunto Delle necessità E delle difficoltà Necessità Derivanti Dalle maggiori Funzioni Che sono state A loro delegati Ma anche Della maggiore Difficoltà Derivanti Dalle ristrettezze Della finanza Pubblica Che comunque Sia Sono sempre Più stringenti Fattori Che mettono Quindi a dura Prova La capacità Dei comuni Stessi Specialmente Ripeto Quelli di piccole Dimensioni Di dotarsi Di rispondere Alle aspettative Di tutti i cittadini In maniera Efficiente Puntuale E soddisfacente E ritengo Che però Appunto In un Comune Come il nostro Che ha scelto La strada Della fusione Proprio per Cercare Appunto Di superare L'impasse Devuto Alla Alla Piccola dimensione Che costringeva A avere comunque I servizi Insomma Faticosi Da continuare A gestire Da soli Possa comunque Rappresentare Una scelta Importante E debba Rappresentare Nel nostro Comune Quindi Una prospettiva Che porti Al Al soddisfare I propri servizi Al Diciamo Al Far fruttare Le proprie Diciamo Ricchezze In termini Appunto Di Di personale Di Di Ricchezze Economiche Proprio per Cercare Di far sì Che quel Principio Di sussidiarità Che viene Comunque Enunciato Nel nostro Statuto Rimanga E sia Un cardine Dell'azione Amministrativa Nella partecipazione A forme Associate Nel senso Che Questa Partecipazione Diventi Esclusivamente E veramente Attuabile Solo Nell'ipotesi In cui Diventa Assolutamente Impossibile Per il nostro Comune Che comunque Ha delle dimensioni E ha una Diciamo Ricchezza Sicuramente Maggiore Non può Soddisfare Quindi Il nostro Auspicio È quello Che Questo Principio Venga Comunque Effettivamente Rispettato E che Si ricorra Quindi a Forme Associate Di servizi E funzioni Solo laddove Effettivamente Ci sia una Corrispondenza Fra efficienza E risparmio Economico E non Solo Per Comunque Sia Entrare In un Meccanismo Che Comunque Fa sì Che alla fine Tutte le Funzioni Tutti i servizi Vengano Comunque Sia Delegati A funzioni Associate Proprio Per Comunque Per la scelta Che è stata fatta A monte Quando è stato Costituito Il nostro Nuovo Comune Grazie Prima di Passare Alle Dichiarazioni Di voto Così come Insomma La regolamentazione Che ci siamo Dati prevede Vorrei Soltanto Far presente Di nuovo Alla consigliera Bosco Ma non me ne voglia Dato che Stasera Ha esaurito Dicendo che Non voleva fare Una lexia magistrale Ma ci ha fatto Una lezione Invece Molto approfondita In quanto Depositaria Della verità E per questo Io la invidio La questione Dell'articolo 40 O quello che sia Relativamente Al bilancio Partecipato Io Se non ricordo male Ho mandato A tutti voi Non solo ai capigruppo A tutti coloro Che sono membri Della commissione Lo statuto Come risultante Da quello Che aveva potuto Capire la segreteria Dai verbali Delle commissioni Ricostruendo Una bozza A seguito Dell'esame Delle osservazioni E l'ho mandato A tutti voi Chiedendovi Dato che Ne io Ne il segretario Comunale Siamo stati presenti A tutte le commissioni Se c'erano questioni Che erano sfuggite Alla redazione Della bozza Di farcele presenti Nessuno Ha risposto Per questo Abbiamo ritenuto Che la bozza Così come elaborata Fosse Pienamente corretta E rispondente Al lavoro Che ha fatto La commissione Devo dire Da quello che hanno detto Tutti coloro Che sono intervenuti Stasera Mi sembra Che il lavoro Fatto Sia stato corretto Nel senso che La volontà Della commissione Mi sembra Sia stata Pienamente Rispettata Nella redazione Di questa Di questa bozza Io concludo Come ho iniziato Sostanzialmente Dicendo che Come Giunta Siamo soddisfatti Della bozza Di statuto Elaborato Che questa Consentirà A noi In questo momento E a chi verrà Dopo di noi Successivamente Di poter Governare Nel miglior dei modi Questo comune Facendo le scelte Che Chi si troverà A guidare Questo comune Riterrà Necessario Che è quello Che proviamo A fare noi Questo non significa La dittatura Della maggioranza Significa Semplicemente Esercitare Il proprio Ruolo Fino in fondo Nell'interesse Dei cittadini Questo Io lo ribadisco E Mi fa piacere Dicevo Che questo lavoro Che ha portato Il risultato Che stasera All'attenzione Del Consiglio Sia Stato Condiviso Dalla Larga Parte Delle forze Che compongono Questo Consiglio Mi rammarico Che ci sia qualcuno Che abbia Diciamo In maniera Prioristica Chiuso Al dialogo Perché Probabilmente Depositario Mi dicevo Della verità Ma Chiuso Completamente Al dialogo Nei confronti Degli altri Consiglieri Non soltanto Della maggioranza E di tutta La Commissione 2 Che ha lavorato In maniera Approfondita Per molti mesi Peraltro Dato che anche questo È stato citato Per molti mesi Sfruttando Tutto il tempo Che la legge Del Rio Che è intervenuta In maniera Successivamente Nel tempo Rispetto Alla legge Regionale Di istituzione Del nostro Comune Che prevedeva Un anno E che prevede Un anno Per i comuni Nati da fusione Per poter Approvare Il nuovo Statuto E io credo Che si sia Fatto bene A sfruttare Fino in fondo Questo tempo Se questo è servito Come di fatto è servito A fare un lavoro Il più approfondito E condiviso possibile A questo punto Lascio La parola Se ci sono Alle dichiarazioni Di voto Altrimenti Passiamo Alla votazione Bosco Prego La mia Dichiarazione Di voto È contraria E Credo Che Ci rivedremo Sul regolamento Della partecipazione Popolare Perché credo Che bisogna Davvero Capire Cosa è Partecipazione Per voi Per noi È chiaro Cosa significa Partecipazione Polare Istituti Anche che cosa è La democrazia diretta Forse Quando ci sarà Il confronto Su quel regolamento Secondo me Riusciremo a dissipare Forse un po' Di Tensioni E però Vanno messe in pratica Perché la democrazia Non va soltanto Enunciata Ma anche applicata Poi Io Mi atterrò Scrupolosamente A questi Regolamenti Alla carta di Pisa Alla Appunto Alle emozioni Che passano Per il Consiglio A tutto Io dico Comunque Cerchiamo di Secondo me Io Non sono stata soddisfatta Di questo percorso Perché secondo me È mancato Appunto L'incontro Con la cittadinanza E non credo Che sia Soltanto una prerogativa Del nostro gruppo Credo che fosse Una prerogativa Anche degli altri due gruppi Il problema Io mi rendo conto Che la tempistica Qualche volta Non aiuta Tutti gli appuntamenti L'agenda C'è tanto da fare Sicuramente Il lavoro Del sindaco Dell'aggiunta Dell'amministrazione È appesantito Da una serie di questioni Però Non si può far finta Che non c'è Questa Questa necessità Quest'urgenza Da parte Di un gruppo Da parte Di alcuni cittadini Di Come dire Di essere ascoltati E di intervenire Su questioni Che li riguardano E poi Fa niente Se questa sera Appunto Sono passata Come quella Chiusa Ho fatto degli interventi Che possono essere State anche un po' Spinosi O duri Non mi sembra Mi sembra comunque Non fa parte Ecco del mio carattere Della mia persona Però Io Il mio ruolo È quello di Come dire Di fare Di cercare Provare A fare una sintesi Tra il fuori e il dentro Per me è importante Che il comune La stanza Dell'aggiunta Di questo consiglio Di quello di Cascianaterme Incontri anche La cittadinanza Che è fuori Fa parte Del mio impegno politico Che mi sono presa Perché io comunque Rappresento anche i movimenti Le associazioni Quindi Vi ripeto Fa parte Del mio Del nostro DNA Grazie Grazie Altri interventi Ballatori Dunque Il nostro gruppo Naturalmente Voterà A favore Dell'approvazione Di questo Statuto Auspico Che questo Statuto Venga Si possa Appunto Anche chi Ha già espresso Il proprio voto Ripensare Alla necessità Di comunque Approvare All'unanimità Un documento Così importante Per il nostro Comune E quindi Capisco che Appunto Fra noi Ci possono essere Delle differenze Che possiamo Non pensarle In solito modo Anzi Ben venga Perché comunque È normale Positivo In una democrazia Però Ritengo che Ci possa essere Comunque Sempre la Predisposizione A volere In qualche modo Condividere Un testo Che di fatto Non mi sembra Che rappresenti Un'ideologia Assolutamente Unica E comunque Sia contraria A altre Che possono Essere In qualche modo Che possono In qualche modo Stasera votare In maniera Così distante Grazie Grazie Cecotti Beh La nostra Dichiarazione Di voto Ci perdo Solo due secondi Perché Credo che sia chiara Siamo soddisfatti Abbastanza Soddisfatti Come ha detto Il Presidente Del punto In cui siamo Arrivati E giustamente Io riprendo Le sue parole Che possono Essere Sembrate strane Inizio Abbastanza Soddisfatti Perché noi Saremmo stati Pienamente Soddisfatti Se oggi Fossimo potuti Arrivare A una A uno statuto Condiviso Da tutto Il Consiglio Comunale Come è avvenuto Anche Quando fu Approvato Il precedente Quello Dell'ex Comune Di Lali Quello che Ascianatem Non lo so Su questo Io ci voglio Spendere due parole Perché Io credo Che deve essere Chiara Ai cittadini Alcune cose Che sono State un po' Travisate Dall'atteggiamento Di alcune persone Noi In commissione Abbiamo dimostrato Di essere Aperti E Fino a un certo punto Si sembrava Poi Passato Il primo Scoglio Che ci fosse Diciamo La volontà Da parte Di tutti I due Gruppi Di minoranza Di arrivare A una A una Condivisione Fino al 18 di novembre Il 18 di novembre È come Crollato un muro E credo Che anche L'altro Gruppo Possa condividere Questa mia Osservazione Perché Alla Commissione Prima Ci eravamo Lasciati Richiedendo Di apportare Alcune modifiche Ad alcune cose Che il gruppo Della Bosca Aveva portato Il 18 di novembre Siamo trovati Di fronte A questo famoso Statuto Intoccabile Pubblicato Sui media Alle 18 e 30 Quando La commissione Era alle 18 Io l'ho scoperto Il giorno dopo Questa Dimostrazione Che non c'era Assolutamente La volontà Di discutere E di portare E per me È stato Incomprensibile Tutto questo Fino Al termine Dell'incontro Che poi È stato Organizzato Dalla Rossa Quando Mi sono trovato A parlare Con Alcuni componenti Di quell'associazione In cui mi hanno detto Candidamente Che il loro scopo Era quello Di Arrivare A quel A quella Diciamo A quella Iniziativa pubblica Perché così Per loro Era Faceva la Cassa Di risonanza Era Un modo Per farsi Vedere E poi A quel punto Lì erano Pienamente Contenti Del loro Operato E a quel punto A continuare A continuare a dire Che non c'è stata La volontà Di affrontare Questo Perché noi L'abbiamo Dimostrato L'abbiamo Dimostrato Facendo anche a volte Anche dei piccoli Passi indietro Che c'è stato Infacciato Da Sessabosco È vero Io avrei preferito Uno statuto Diverso Con delle cose Diciamo Che mi sarebbero sentite Più vicine Al mio modo di pensare Ma forse è anche giusto Che questo non sia avvenuto Poi Che poi dopo Durante questo confronto Siamo riusciti A trovare delle forme Più laiche Come ho detto prima E più condivisibili Perché secondo me Hanno migliorato Questo statuto E quindi Se chi avesse voluto Partecipare A questa discussione Apportando sicuramente Anche delle Come si potrebbe dire Delle Delle fondamentali Anche cose Anche importanti Non l'ha voluto fare Chi l'ha voluto fare L'ha fatto E sta scritto Tempo Chi non l'ha voluto fare Si prende le sue responsabilità Bene Grazie Allora mettiamo In votazione Questo Ottavo E ultimo punto Dell'ordine del giorno Statuto comunale Approvazione Favorevoli 15 Contrari 1 Astenuti Nessuno Do atto Che Nella votazione È stata raggiunta La maggioranza Di due terzi Quindi lo statuto È immediatamente Approvato Entrerà poi in vigore Nei termini Di legge La seduta Di stasera Termina Termina qua Una comunicazione Solo Ai consiglieri Finali Prima di uscire Se vi fermate un attimo Perché ci sono delle comunicazioni Per voi Che così quindi Ve le consegniamo direttamente Buonasera a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti